Salve a tutti, sono Matteo Salve a tutti, sono Matteo Signor Giacomo, salve Salve signor Matioschi, salve ai miei colleghi, salve alla chat, prestanza fisica che io condivido con un grissino, ma comunque prestanza fisica che sarà utile per affrontare oggi argomenti tranquilli, pacifici e che non ci hanno minimamente disturbato No, no, no Super Mario, salve uomo che sapeva troppo, come sta? Ospiti scelti, scelti a caso, ma scelti qualcuno direbbe, ero qua, intanto mi stavo chiedendo prima come mai, visto che Dio è eterno e immortale, ha fatto scrivere ben due testamenti, non lo so, mi stavo chiedendo questa domanda, pronto però per la live Oggi tocchiamo anche la blasfemia, complimenti Mi piace variare, toccare vari argomenti E che ci ha ripensato a un certo punto, non era convinto del primo, ne ha scritto un altro Ecco la verità Ma salve signor Matioschi, io saluto i miei colleghi, saluto la chat E che facciamo? Io partirei facendo i complimenti per quest'area di moderazione che si respira qui Complimenti Non prendiamoci in giro, oggi va a finire a schifio peggio di Super Mario È giusto, io sono molto carico Però dai, ce la facciamo Michele Innocenti Io sono l'uomo più possente fisicamente e più violento delle facce di nerd E quello è già più figgino Anche quello, ma non lo volevo dire in questa sede, lo volevo dire nelle domande dal pubblico Ma sarò anche il più rilassato oggi e mi crogiolerò nelle vostre incazzature Perché vi vedo un po' troppo nervosi in questi giorni, cari ragazzi miei Un pochino Paolo, benvenuto Eccomi qua, che bello Dopo Super Mario oggi è tutto in discesa Quindi chissà cosa succederà Abbiamo tanti trailer da commentare Fra cui quello uscito poco fa Dell'uomo ragno più veloce di sempre Che infatti si intitolerà Spider-Man che non si dica Ciao a tutti Oggi ho preferito quella dell'uomo Ma l'uomo, sì, sì Bruttina Dovrai rifarti Paolo durante l'ora Va bene, va bene Si deve riprovare C'è Victor Laslo 88 Nelle tenebre Salve Ma neanche tante tenebre, dai È luminosa È luminosa la situazione Perché non ci viene da dietro Quindi Eh vabbè però Un po' sottoesposto Ma è uguale No, io ero da dieci minuti davanti al PC Che aspettavo il messaggio E non mi ero accorto che era arrivato Perché è arrivato alla stessa ora Di quello di settimana scorsa E pensavo fosse quello vecchio E a dieci minuti che aspettavo Ma perché non mi manda il link Comunque Victor ha detto che è sottoesposto Ma non è vero perché è sotto Giacomo Vedi, vedi Se fosse sottoesposto sarebbe sotto di te Bravo, bravo Ti bastano capirla Infatti mi è venuta A me è venuta pensando a me E vedi Voi siete veramente Siete veramente delle persone brutte Siete persone brutte Aspettate C'è un altro ospite Filippo Oltroquando Salve Buonasera Ragazzi cominciamo bene Veramente Io vi sentivo Mi stava passando una voglia di entrare Ecco perché è arrivato dopo Lo capisco Lo capisco Che è successo qua? Ormai è così Battute Freddure Mr. Freeze sarebbe orgoglioso Certo Noi Iniziamo Tranquilli dai Dai Quasi Qui c'è poca gazzarra Sono arrivati i due trailer Aspettate Arriva anche un altro ospite Incredibile Incredibile No così Ecco Ciao Benvenuta Benvenuta Buonasera Aspettate Questa succedendo No Sono andata via In questi giorni Eh? Cosa? È andato via l'audio adesso Non è la viale Perso 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 Ma come perso? No eccomi Ok tornata Nella Svet piace che Lei prima entra in live E poi prepara il sessione E poi si prepara Tutta Secondo me tra l'altro Ho avuto poco tempo Io non vivo Ma forse anche il microfono È da cambiare Sì secondo me Non ha il microfono attivo Il microfono è sbagliato Ma che cosa dite? Eh Sì È chiaramente quello della webcam Sì perché arriva dopo Un po' insolito Cos'è questo? Adesso A posto A posto Ok Bene bene Allora Due trailer per due prodotti diversissimi Da una parte abbiamo Un film del Marvel Cinematic Universe Con protagonista Un trio femminile Che sembra avere dei toni Abbastanza leggeri E scanzonati Dall'altra parte Trailer di serie Spin off Di The Batman Di Matt Reeves Koopa Con questa ambientazione criminale E poi appunto Da una parte abbiamo un film Dall'altra una serie Però stessa settimana Una settimana ricchissima Si stanno scatenando Un sacco di proposte Un sacco di offerte Sembrava quella Quella di settimana scorsa Sembrava enorme Questa è stata forse anche più Poi invece Sì sì esatto Esatto Così così ci confrontiamo Impressioni In maniera un po' Generica Iniziamo dal signor Giacomo Ma sì dai dai Prego Va bene Allora Parto da The Penguin Perché parto dalla roba Diciamo su cui sono più tranquillo Beh la mia reazione A questo trailer Si può dire Dov'è la prima puntata Perché Ho respirato Tutte le atmosfere Che ho amato In The Batman Colin Farrell L'ho amato Nel film E l'ho amato In questo trailer E si Si prospetta appunto Il tipo di storia Che avevamo preventivato Nelle conseguenze Del finale del primo film Con una Gotham Ancora Devastata Dagli eventi finali Anche dal lato Dal punto di vista Della malavita Perché ci sono stati Dei grossi sconvolgimenti Sul fronte Della malavita Di Gotham Si innesca Una guerra Tra bande Da cui ovviamente Oswald Coppelbot Vuole Emergere Vincitore E diventare Il nuovo Il nuovo Kingpin Del crimine Termine che viene usato Nel trailer Quindi parole sue Parole sue E Non vedo l'ora Insomma Non vedo l'ora Sinceramente Di vederlo Perché il personaggio Ripeto Mi era piaciuto tanto Qui avremo più tempo A disposizione Per vederlo Sospetto anche Magari qualche flashback Sul suo passato Nel corso Nel corso Nella vicenda Sono ansioso Di vederlo Nel Interagire Con gli altri Contendenti Al trono Della criminalità Non ultimo Anzi Primo tra tutti Salvatore Maroni Che non vedo Mi sembra che anche il casting Fosse già stato annunciato Per Maroni Non mi ricordo Sembra di sì Ma adesso Sì un po' di l'attore Però mi sembra di aver letto Qualche tempo fa Che appunto era stato scelto L'attore Che avrebbe interpretato Interpretato Clancy Brown Ah vero Clancy Brown Giusto Ecco Ecco Altro attore Altro attore Che io Che io amo Alla follia Porca vacca Sì Ottimo È una legge C'è anche Christine Miglioti Che è quella È la figlia di Falcone Sofia Falcone Che è bravissima lei Grandissima Grandissima Madonna È bravissima Si vede quando Paolo Sì perché è grandissima È grandissima perché devi interpretare un personaggio Che si chiama Sofia Gigante Quindi la notte Certo Certo E speriamo ci sia solo Sal Sennò che due maroni Madonna C'è anche la candidata C'è la candidata all'Oscar Shoré Agdaslu Candidata per Aspetta Ora te lo spiego Qual è il tuo film preferito di questa Mi pare Fuga del cavallo morto Un film molto interessante Shoré Agdaslu Candidata Abbiamo capito Michele Sei pronunciato Attrice non protagonista Per la casa di sabbia e nebbia Cacchio Già il delirio È la scienziata Quello di Paolo era Quello di Paolo È la scienziata Nel laboratorio Worthington In X-Men 3 Che se non sbaglio Muore malissimo Con gli schizioni Che mi faccia Sì 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 Ok E portate rispetto Ok Ok Quella che viene abbracciata Dal pesce Dal pesce Esatto Mi chiederò Mi chiederò Mi chiediamo tutti di rivederla Non è esattamente L'attrice principale Che sognavo di rivedere Comunque In generale Il trailer è anche costruito bene Mi ha esaltato L'ho rivisto un paio di volte In più Rispetto alla prima Mi ha esaltato ogni volta Quindi veramente Non vedo l'ora che esca La prima puntata Mi sembra una continuazione Assolutamente degna Di questo micro universo Che si sta formando Su The Marvels Allora The Marvels Sono un po' Metà e metà Nel senso che Tra le cose che ho apprezzato È Senza dubbio L'interazione che si vede Tra loro tre Mi sembra che Funzionino bene Quindi Da quel lato Ci sta L'atmosfera È quella che mi aspettavo Da un film del genere In realtà Il problema principale Non riguarda Il trailer in sé È che Questo trailer Chiaramente Soprattutto per due Delle tre protagoniste Mi ricorda le serie Perché Se ripenso Alle origini Di Monica Rambeau E alle ultime puntate Di Miss Marvel Mi viene il nervoso Quindi Nel frattempo è diventata Monica Rainbow Nel trailer italiano Rainbow Eh no Io l'ho ascoltato In inglese De Monica Rambeau Sempre Quindi Grazie al cielo Non l'hanno cambiata Non penso che Sera pronunciato così Durante tutto il film È interessante La cosa che sembra essere Cioè ogni volta Che usano i loro poteri Per qualche motivo Si scambiano di posto È una dinamica interessante Quindi Devono tenere a freno I loro poteri Posto che credo Come si vede anche alla fine Questa cosa verrà usata A loro vantaggio Per qualche bella Scazzottata Divertente È una cosa che viene Dai fumetti Negli ultimi anni C'era proprio una run Di Captain Marvel Dove si collegava A Miss Marvel Per dire il potere Per la firma energetica Sì sì Però è divertente Perché comunque Alla scena iniziale Ci sta con Kamala Che si ritrova proiettata Nello spazio Senza motivo Quindi Il tono da Il tono leggero Ci sta Le protagoniste Per quanto riguarda loro Sembrano funzionare Appunto l'unica cosa È che Anche quando c'è Nick Fury Che va Che va a casa Di Kamala C'è la sua famiglia Mi ricorda Tutte le menate Sulla serie Quindi è Un retaggio Che è così Spero che almeno Mi facciano Vedere quei personaggi In una dimensione Ma soprattutto Il pianeta musical Io quello L'attendo È vero Il pianeta Bollywood Il pianeta Bollywood Io speravo Non fosse un pianeta Ma ridendo il trailer E invece E invece Torna anche qui Infatti L'ho cercato di dimenticarmi Nel prima possibile Comunque complimenti A Nick Fury Che contemporaneamente È in due prodotti Dal tono completamente diverso Come diceva il Seor Cup Questo non confonderà Assolutamente il pubblico Vabbè Stanno già chiedendo Il trailer di Spider-Man Far From Home Quando in teoria Era ancora morto Sì Però è vero Comunque È prima È prima Comunque Quindi per il momento Mi riservo un 50 e 50 Su The Marvels Preferisco aspettare E vedere Ecco Uomo Allora Io sì Sono anch'io Diciamo Sul pinguino Molto positivo Tra l'altro Mi è piaciuto Anche che il trailer Mostri anche un po' di set Perché è un trailer Che fa vedere Proprio che in produzione In un sacco di momenti Si vedono Camera Man Il tizio col microfono Quindi molto figo L'unico dubbio Che potrei avere Ma il solito dubbio Di tutti gli universi Condivisi È quanto Potranno utilizzare Appunto Batman Bruce Wayne Non che sia necessario Però l'ho sempre detto Cioè se il pinguino Dice Stanotte andiamo al porto A fare questo scambio E tutte le gang Si riuniscono lì E Batman non interviene A te viene sempre un po' da dire Dov'è sto pipistrello Quindi se nel caso Non possono Prendere Batman E Ha suonato Ha suonato un citofono È arrivato lui Dov'è infatti Il citofono Che poi È la cosa che Sempre mi sono chiesto Cioè io cito sempre Iron Man 3 Dove rapivano il presidente E negli Avengers Né almeno Capitano America Si faceva vivo Per aiutare il presidente Però se la gestiscono bene Comunque Saremmo disposti A chiudere Un eventuale occhio Oppure magari Si svolge una serie Tipo 24 Si svolge tutta In un giro Di una giornata Però no Sono molto intrigato Lui è bravissimo Mi scusi uomo Uomo Scusi se la interrompo Com'è Sapete Chi ha recitato In una stagione di 24 Quella di prima Ma ovunque Ma non è possibile Ovunque Ebbene Che dove Non può Esatto Sta diventando la mia attrice Preferita E a me è sembrato Proprio di vedere Comunque Delle scene tagliate Da The Batman Insomma la qualità Mi sembra Vada proprio Intorno a quello Al cinematografico Sono curioso di vedere Come il pubblico L'accoglierà Perché devo dire Che mi è arrivato Qualche messaggio Del tipo Ma Però io vedere Non so Sei puntate Di intrighi Diciamo Più sul mafioso Che sul supereroistico Magari mi interessa meno Voglio vedere Cosa ne dirà Il pubblico Sapere anche Dove approderà In Italia Eh sì Fra l'altro Ovviamente Perché Se approderà Perché magari La vedremo Quella secondo me No Però approderà Su Sky Dove volete Che approdi Eh Su Now Sì Su Now Su Sky Comunque è la stessa roba Che ci riprovino A fare lo stesso casino Di Peasemaker Eh no Appunto Appunto E quindi sono Molto molto Intrigato Eh The Marvels Anch'io come Giacomo Diciamo Non ho sprizzo Già da tutti i pori Ma Nemmeno Non ho percepito Un disastro Dietro l'angolo Eh Come Victor l'ha definito Nella sua reaction Un trailer onesto Io sono d'accordo Cioè Mi sembra un trailer Che vuole raccontarti Quello che poi Di cui il film parlerà A differenza di altri Che un po' ci mentivano Altri che sembravano Veramente Il quarto potere Dell'MCU Tipo Wakanda Forever E poi Non è stato Cioè Non è stato un brutto film Però i trailer Veramente sembravano Tirare fuori una roba Folgorante Qua invece mi sembra Che quello che Ci hanno mostrato È quello che vorranno raccontare Mi sembra un film E uso le parole di Matioschi Piccolo Cioè che non vuole mettere L'intero universo in pericolo Poi ovviamente Il secondo trailer Già ci racconterà Che l'universo sta finendo E solo loro tre Potranno salvarlo Però per adesso Mi sembra una storia Molto più personale Legata ai personaggi Che effettivamente È quello che deve succedere Che è la cosa che manca Un po' in questi ultimi film Marvel Il focus sul personaggio C'è il pianeta ballerino Bollywood Che un po' mi Mi spaventa Ma Pare che Molti dei reshoot Che hanno fatto Siano anche per cambiare Un po' il tono Quindi magari Non dico Trasformarlo in un drammone Perché il trailer Non dice questo Però se magari Mitigano un po' di cazzatone Che prima c'erano Adesso non ci saranno Io sono anche Sono anche contento Brie Larson Veramente io la amo E con ogni mia Fibra Non l'avrai mai detto C'è una donna Che non ami tu No È difficile Trovarne No però Su Brie Larson Ho proprio Un amore Ma anche quella di prima Cambia il nick Non più l'uomo Che sapeva troppo L'uomo Che amava Che ne amava troppe No L'uomo che sapeva Eh buonasera No No Questa volgarità Un altro film No Più che altro c'è questo Poi io Vado un po' di contrasto Cioè più il pubblico La odia Più io la amo Brie Larson Più dice che Fa schifo recitare Più ricordo Che è l'unica Che ha un Oscar A differenza di tutti I protagonisti MCU Insomma faccio proprio Questa cosa Del contrasto Solo perché lei Non riesce Tra l'altro Immeritatissima Ricordiamo Vabbè però Intanto se l'è pigliato Però io Mi spezzo una lancia A favore dell'uomo Tutto studio Non se lo merita Brie Larson No Poi a me fa ridere Quando odio Capitan Marvel Ma soprattutto Brie Perché sono usciti Tutti a cena Con Brie Larson Capito Sono stati a cena Con lei Sanno com'è dal vivo No Vabbè Perché Perché è bella Mamma mia Michele Oggi comunque Eh No Perché c'è questa cosa Che o reciti Come Nicolas Cage Capito Cioè tipo Ciao Vengo Anche lui premio Oscar O reciti male Però capito Cioè recitare è solo quello Se invece reciti Di micropause Micro cose No Non sembra Jonathan Major Sei un grandissimo attore Esatto Solo sopra le righe Sennò la gente Dice che non sai recitare Vabbè Comunque no Sono molto positivo Sul rapporto Tra loro tre E mi piacciono Anche qua Vediamo quanto ci racconteranno Quanto no Visto che Miss Marvel E anche la Rainbow Si basano su delle serie tv Quindi oramai il trend Di obbligarti Tra virgolette A aver visto le serie tv Sembra Perché hai i poteri Mi sono tolta il casco Quando potevo mettermelo No che poi ho letto Sai cosa Che non era il casco Ma il fatto che lei Si è passata tante e troppe volte Nel Attraverso la Lei coso Lei ovviamente Senti le mani a posto Già che ci sei Magari un po' di precauzioni Ma vediamo che anche qua Sembra andare a fare una missione Che non deve fare E va a toccare una roba Che non deve toccare Sì infatti io quando Io addirittura Ho avuto paura Che fosse una retcon Su come ho ottenuto Il potere Ho detto Sei così Anche io ho avuto paura Anche io ho avuto paura Credo sia una missione Che deve fare Perché c'è Nick Fury Che sta Però lui dice Dove sei Fa no sono qua fuori Del tipo aspetta di andare No no Voglio Diciamo che magari Se hai una barriera dimensionale Nello spazio La prima cosa che ti viene in mente Non dovrebbe essere Toccarla Toccarla Cosa tocchi Cosa tocchi Un po' come in VandaVision C'è questa barriera Attorno alla città Ma ci mettono le mani Sono andati a scuola Alla stessa scuola Dei personaggi di Alien Covenant Esatto Che toccano roba Che non avrebbero Ehi una biscia Su un pianeta alieno Vieni qua piccolina Ma sei demente Le scuole differenziali Chiudo Facendo notare una cosa Al di cui non si è soffermato nessuno Quando Nick Fury E la Rainbow Vanno a bussare Dai Khan Che non sono amici Insomma di quelli Di Star Trek C'è un tizio imbavagliato Nel salotto Cioè mentre loro parlano C'è uno Se uno è seduto Sulla siena Imbavagliato Sì sì è vero Hanno rapito uno E loro non è che dicono qualcosa C'è chiamo Kamala Khan Vi invito a notare questo Particolare Chiudo Chiudo con una minchiata Che mi è venuta in mente Ma io Se le ho Nella testa Devo per forza dirle Prima Matioski ha detto Che la serie del piguino Gli sembra molto Koopa Infatti sarà la preferita Di Bowser Perché Koopa Eh esatto Prego Questa Questa è Questa è particolarmente Terribile Devo dire Eh sì però Ce l'avevo proprio qua Dovevo L'uomo Aveva iniziato bene Una bella battuta Un po' Trasgressiva Perso un po' di Vedi a voler fare A voler fare il fenomeno Che poi ti schianti di faccia Eppure con Batman La battuta dovrebbe venire bene Però Paolo sei poco in forma Oggi 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 Alla grande Perché Il pinguino Già ti Ti dà un'idea Del taglio Che avrà la serie Questo potrebbe allontanare Quel pubblico A cui non piace il genere Può darsi Eh di certo Questo è un Un prodotto Che Viene girato Dopo Il colloquio Tra Gun E Matt Reeves Quindi Tutti quei dubbi Che potevano esserci Circa Ma The Batman Diventerà più fumettoso Andando avanti Adesso Questa serie Ci dirà proprio No Ormai Arriva The Brave and the Bold Ormai Il fumettistico Sarà Riservato ad altro E quindi The Batman Parte 2 Avrà tutto Un suo taglio Specifico E Matt Reeves Ci potrà fare Quello che vorrà Senza nessuna Interferenza E va benissimo Così Raga Ma che gli vogliamo Dire A che Vole in Farrell Ma questo è presissimo È flippato Cioè lui secondo me Dorme proprio Con il trucco Prostetico Ormai Non ce n'è Discussione Quindi io sono Proprio alla grandissima Mi è piaciuto Ed è una cosa Ovviamente fatta Per presentare Max Eppure ho detto Mamma mia Ma già tutta Sto carisma Trasuda Staserie E io non sono Uno che apprezza Sto genere Ma io la voglio Domani Assolutamente Per The Marvels Che ho visto Molte persone Sapete le critiche No The Marvel Ma capita A Marvel È troppo musone Il trailer Dovevano venderlo Così E hanno fatto benissimo A venderlo così Il film sarà leggero Ci saranno dei momenti In cui Lo spettatore Gli si porrà davanti Una riflessione Di qualche tipo Probabilmente sì Ma io spero Non facciano l'errore Di vendercelo Come Ant-Man Ormai Quanto meno è diventata Una specie di Di precedente Che tu non devi più fare Un trailer scansonato Uno che invece Ti fa capire Che muoiono tutti Se me lo stai vendendo Così I prossimi due trailer Che escono Te lo devono vendere Così Noi andremo al cinema E sai già Cosa stanno andando a vedere A me piace A me piace Kamala Khan E piace rivedere La sua famiglia Perché E quante serie hanno fatto Su Disney Plus Sono gli unici comprimari Che mi sono piaciuto Manco Non sono affezionato Manco a Sam Per farvi capire Che protagonista Del film Di Capitan America 4 E sono più affezionato Alla famiglia di Kamala Perché i pacchi Li hanno fatti comportare Da stronzi In quella serie Ho più hype Per John Walker Rivederlo in Thunderbolts Per dirvi che Sono due mili Così Il vero cap John Walker Vero cap E quindi Cioè per questo Poi sì Ci sarà quella sequenza Un po' da musical Un po' così Io spero che durerà Meno del previsto Sinceramente Sì perché Sennò poi Al camp Ci vuole un attimo Ormai lo sappiamo Però per il resto Io sono Tranquillo Tanto peggio Dico Tranquillo E soprattutto Continuiamo Con i trailer Che non spoilerano niente Soprattutto Perché I guardiani Si stanno tenendo Benissimo A livello di campagna marketing Benissimo Magari The Marvels Anche Speriamo un po' Michele Ma io Mi accodo Ai colleghi E agli ultimi due colleghi Perché Giacomo Si Marvels Un po' L'ho visto più titubante Io ormai sono Ho raggiunto Una Un rilassatezza Zen Assoluta The Batman Sto tranquillissimo Perché c'è comunque dietro la macchina E The Penguin Anzi Non The Batman C'è la mano dietro di Matt Reeves È un progetto che comunque è stato annunciato Poco dopo l'uscita del film Quindi credo che fosse una Un'idea che gli frullava in testa già da prima Probabilmente Avesse già Dei progetti al riguardo Il teaser è soddisfacente al 100% Fa capire benissimo che insomma Riprenderemo il personaggio Da quell'ultima inquadratura alla fine del film Che era molto evocativa E mi fa piacere che quella storia Venga raccontata fuori dai film Perché si rischiava Se no di affollare di troppe storyline O di troppi elementi Il secondo film Quindi arriveremo al secondo film Con Pattinson Sapendo già il percorso che ha intrapreso Il buon Oswald E la cosa mi interessa tantissimo Soprattutto se la qualità tecnica e produttiva È quella di Reeves da una parte E di HBO dall'altra Quindi lì veramente non avevo dubbi prima E il trailer mi ha solo regalato sorrisi The Marvels chiaramente Ormai io Allora Ormai sono mesi Che sono Ormai anni in realtà Che sono critico Forse più della media Nei confronti dell'MCU Insieme a lei Dottor Mateo Che a qualcun altro Però poi si rischia di fare Il giro E arrivare all'estremo posto Ovvero Sparare sulla croce rossa Che è una Una pratica che a me fa sempre Tendenzialmente vomitare Vedo già sui social Su Youtube Tutti pronti L'ennesima merda Cioè Veramente È come Paolo Che prima era L'uomo della DC E ora smerda la DC Sul nulla Se dalla mattina alla sera Ora tutti amavano la Marvel Ora si divertono tutti A smerdarla dal nulla È chiaro Antony and the Wasp Quantumania E tutti i film della fase 4 Venuti prima Non hanno aiutato Chi più chi meno Nella nomea Della Marvel Contemporanea E soprattutto L'ultimo titolo Ha deluso molto Anche economicamente Questo film Diciamo Non potrebbe arrivare Nel momento peggiore Perché diciamo Arrivare dopo Da una parte Uno dei film meno amati Dell'MCU E nel mezzo Probabilmente averci Uno che sarà Tra i più amati Perché lo sapete Mi fido ciecamente Di James Gunn E della qualità Che mi aspetto E che pretendo Da un certo punto di vista Dai Guardiani 3 Non aiuta Perché è palese Come si diceva poco fa Che sarà un film Dai toni leggerissimi Viranti alla comedia Che è un po' Il canon MCU In generale Ma mi sembra che qui Ci si prema Un po' Vedo che Filippo Fa un po' Zumba Quindi Però Io in realtà Sono abbastanza Mi sono abbastanza divertito Al trailer Perché comunque C'è una delle dinamiche Che io preferisco Nei film Di supereroe O comunque action Con il personaggio Bigger than life Sarà che sono Un grande appassionato Da tutta la vita Di last action hero Ovvero il bambino fan Che si trova A fianco del proprio eroe E cerca di trattenersi Ma non ce la fa A me quella dinamica Cinematograficamente parlando Mi ha sempre divertito E quindi Kamala Ma è per lei Per fortuna Che c'è Kamala In questo film Kamala è il mio punto Principale di interesse Anche perché a me Il primo Captain Marvel Non fa cacare Ma quasi ci siamo È uno dei peggiori film Fino a quel punto Dell'MCU Per quanto mi riguarda Uomo Scusa Amo Brie Larson Da molto prima di te Scommetto fra l'altro No è molto Perché sei più vecchio Esatto Io mi sono innamorato Di Brie Larson Nota a margine Visto che anch'io Sono accusato da molti Di amare troppe donne Cosa che è verissima E anche qualche uomo Forse Tranne l'uomo United States of Tara Grande film No è una serie È una serie Paolo È una serie È una serie È una serie Con Toni Collette E lei faceva la figlia In quieta Era abbastanza giovane Aveva avuto una ventina d'anni E c'era una scena infame In cui decideva di fare soldi Sfruttando i nerd su internet Facendo la camgirl In cui vestita da vichinga Con gli shorts Si chiedeva su richieste In un OnlyFans Come si chiama United States of Tara Si sedeva su una torta Piena di panna Ah verbale Diciamo che l'ho vista Una ventina di volte Io me lo segno Perché Lo metto nella lista Delle cose da fare Siete dei perivertiti In realtà la serie Era molto carina Creata da Diablo Cody Premio Oscar per Juno E per questo la voglio vedere La mamma aveva Le personalità multiple Era divertente Lei era anche in Community A un certo punto Si e Scott Pilgrim Ovviamente Poi la perfezione Ce l'ha avuta Con Scott Pilgrim E appunto Ripeto Kamala Miss Marvel Non è una gran serie Forse è passabile Visto quanto sono Peggiori le altre A confronto Però E meno peggio di tante altre I Manvellani È stata convincente Come giovane Nuova supereroina E appunto Io mi baso su di lei E proprio sulla sua Essere l'elemento comico L'interesse per il film Verso il quale Non ho grandi aspettative Se non Di divertirmi Nella speranza Che in questi mesi Direzionino un po' Il progetto a lungo termine Quindi Chill out Relax E via Paolo Allora Per quanto riguarda The Penguin Anch'io Mi aspetto Una serie Molto riuscita Avendo apprezzato tanto The Batman Rivedere quel Pinguino lì Poi io adoro Le serie Ma anche i film Che parlano di Aspetti gangsteristici Criminalistici Quindi questa cosa qua Mi ha sicuramente Fatta alzare La sticella Del gradimento Poi vediamo Poco effettivamente Più un making off Un backstage Ma vedo Colin Farrell Molto in forma Sicuramente la serie Delizierà e sorprenderà Tutti Si può dire poco Perché effettivamente È un qualcosa di accennato Non è proprio un trailer Vero e proprio Per quanto riguarda The Marvels Allora Per me come per Michele Captain Marvel È uno dei peggiori film Del Marvel Cinematic Universe È carino Però Veramente niente di che Non ho mai provato Simpatia Per il personaggio In questione Che qua hanno totalmente Cambiato L'hanno reso più simpatico Il trailer di The Marvels Non mi ha lasciato niente Proprio non mi interessa Anche perché Secondo me Miss Marvel È una serie bruttissima Che parte anche In maniera dignitosa Ma poi Va a calare drasticamente Solo She-Hulk Forse riesce a fare peggio Quindi di rivedere Kamala Khan Non mi importa niente Poi cosa c'è Il personaggio di Captain Marvel L'ho detto Non mi comunica alcun Che Monica Rambeau Avendo amato Wandavision Forse è l'unica cosa Che mi fa Minimamente incuriosire Al film Però anche questo divertimento Che pare forzato Il volerci inserire L'aspetto Più pop Più divertente Più umoristico A tutti i costi Non saprei più Che altro Vi pongo anche a voi Una domanda Ieri sera In un'altra live Ho fatto lo stesso Cioè se questo film Non facesse parte Di un universo Condiviso Quanto sareste interessati? Cioè se fosse un film Ex novo Che ti presenta Questo personaggio L'altro personaggio Vi incuriosirebbe? Perché secondo me Scusami L'universo condiviso a Marvel È stato creato Oppositamente per questo Sì sì però Cioè ripeto Se io magari Se mio nonno aveva tre palle Era un flipper Cioè No però Ci sono dei film Che io anche Senza che Che siano collegati Ad altri Mi interessano lo stesso Indipendentemente Dal collegamento No Allora se lo possono permettere Proprio perché hanno già Un canone Lanciato vent'anni fa È chiaro che questo film Senza Il marchio Marvel Sarebbe Debolissimo Ma esiste In quanto Marvel Anche un trailer diverso Secondo me No ma pensate Tipo Questo discorso fatto Che la settimana scorsa È uscito il trailer Di Blue Beetle Poverino Che quello è proprio Bruttissimo Però È proprio Silenziato Però questo è il mio parere A riguardo Sicuramente Tante persone Saranno più Incuriosite Dal fatto Che porta avanti La storia Del filone MCU Piuttosto che Per vedere Un qualcosa di nuovo O altro Secondo me è così Però lo vedremo E poi magari sarà Un bel film Anzi me lo auguro Victor Allora Allora Io parto Da The Penguin Perché a parte il fatto Che sono Quelli di Max Sono trailer Che sono arrivati All'improvviso Perché poi non è neanche Un trailer Una featurette Con alcuni momenti Si vedono tante scene No tra l'altro È fantastico È fantastico Che qualcuno A me è venuto a dire Ma nessuno si è accorto Che a un certo punto Si vede l'asta del microfono Che entra in campo È una featurette Però vabbè No ma serio È serissimo Ma nessuno ha dato fastidio No è una featurette Però vabbè È fatta apposta Per Dio Sì vabbè Ma ormai non Vabbè Però Ci sono tante scene Alla fine è un trailer Vero e proprio Perché di featurette C'è poco È un teaser Punto A me ha ricordato Tantissimo L'atmosfera dei Soprano Ma proprio tanto Con una punta Di Scorsese Ci ho visto Qualche momento Alla The Goodfellas Io infatti ci ho visto Più Boardwalk Empire Parlando di serie Anche sì Guarda sì anche Volendo anche Boardwalk Empire Però ad esempio Lui Come aspetto È un po' Un Tony Soprano Un po' tracagnotto Con il faccione Quindi Secondo me L'hanno un po' Essere così Poi tra l'altro È bello Perché noi sappiamo Che questa sarà La lotta Per il potere Di Oswald Cobblepot Una volta che Il capo Se n'è andato Quindi è successivo Quello che è successo In The Batman Lui cercherà Di farsi un nome E quello che mi ha Diciamo Comunicato questa serie È che il progetto È diverso Rispetto a quello Delle serie Della MCU Perché le serie Della MCU In teoria Dovrebbero collegare Tutto Abbiamo visto Con WandaVision Doctor Strange Per cui Non è che capii bene Perché Wanda fosse così Se non avevi visto WandaVision Perché il collegamento È pure fatto male Ma quello è un altro discorso Qui mi dà proprio l'idea Che se tu vai a vedere The Batman 2 Secondo me Non sarà necessario Aver visto il pinguino Cioè tu vedrai Magari già il pinguino Che ha raggiunto Il potere che deve raggiungere Se vuoi sapere Come l'ha raggiunto Ti vai a guardare la serie Ma non è obbligatorio Quindi così Mi piace Perché se uno Vuole approfondire Può approfondire Anche quando ci sarà La serie di Arkham Asylum Con il Joker Secondo me Non sarà una cosa Del tipo Deve se guardi Il film in cui ci sarà Il Joker Non capirei nulla No Se vuoi sapere Cosa ha fatto il Joker Prima di quel momento Ti va a vedere la serie Se le gestiscono così Per me ha già più senso Così chi non vuole Vedersi le serie Non se ne va a vedere Mi è piaciuto molto Contentissimo per Clancy Brown E anche per Christine Medioti Che è un'attrice Che io adoro Per cui in America Vanno pazzi tra l'altro E quindi è un bel trailer Peraltro con queste musiche Che insomma Danno un bel ritmo La fotografia Non mi ha dato l'idea Di una serie Con la qualità Di una serie Cioè a me Io vedo a livello tecnico Lo stesso impegno Che è stato messo in The Batman Non Se mi avessero detto Che è un film Ci avrei creduto Quindi Sono curioso Poi lui E mi sembra veramente Tanto in parte Colin Farrell Cioè si vede Che a lui piace il personaggio E noi Si diverte un casino Perché se ne sono usciti Con un teaser Che è pure di questa qualità Per quanto riguarda invece Le Marvels Mi sono sorpreso tantissimo A ritrovarmi curioso Per un film di cui Non mi interessava Niente Nel senso che Laddove Se noi pensiamo Se noi pensiamo ai trailer Dei film Precedenti a questo Notiamo che erano trailer Che non Ti vendevano il film Per quello che era in realtà Black Panther Walk and the Forever Wow sarà una figata Incredibile L'omaggio Niente Ant-Man and the Wasquantumania Anche lì La grande introduzione Il cattivo Mio Dio Niente Questo invece Mi sembra un trailer Che ti presenta il film In maniera totalmente onesta Cioè io vedo il trailer E penso Questo film sarà una cacata Però io andrò a vederlo Già sapendo Che mi devo aspettare Una cacatona Ma non una cacatona La torra Love and Thunder Per intenderci Cioè una cacatona Nel senso un film leggero Con tre protagoniste Che sembrano funzionare Io Come alcuni di voi Ho amato Non la serie Miss Marvel Ma il personaggio Lei è fantastica E secondo me Il plus di questo trailer È Iman Vellani Cioè Dà un tocco di freschezza Veramente incredibile È È superiore A livello A livello proprio di impatto E devo dire che A me lei Captain Marvel Non piace Perché è un personaggio Che è sempre stato Presentato un po' come antipatico C'è questa operazione simpatia Che hanno già iniziato Tempo fa Già nella post credit Di Shang-Chi La leggenda degli acenelli Lei era un po' più simpatica Era un po' meno Meno stronza Diciamo Poi c'è la scena Poi c'è la scena nel trailer Che era la post credit Di 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 Miss Marvel Abbiamo È proprio la scena Lei che arriva in camera Come ha detto prima Giacomo È molto interessante L'idea di loro Che si Che si scambiano di posto Quando usano i poteri E Tra l'altro Io sono abbastanza convinto Che Ci sia quella cosa Che io dico Da un po' di tempo Ovvero il fatto che La chiave Di questo switch Sia proprio Captain Marvel Scusa Captain Marvel Miss Marvel Per via del bracciale Io sono convintissimo Che questi artefatti Come il bracciale Gli anelli di Shang-Chi Inizieranno ad avere Un minimo di importanza Non dico che saranno Tipo le gemme dell'infinito Però secondo me Qualcosina Ce l'hanno in ballo Su questo tipo di artefatti Perché io penso Che servano a introdurre Un qualche eterno Perché sono tecnologie aliene Di millenni prima E quindi secondo me Il fatto che Sono tutte collegate Ma mi sembra Che quella più centrale Per lo scambio Sia proprio Miss Marvel Tant'è vero Che La scena del primo switch La vediamo Nella serie di Miss Marvel Per cui secondo me C'è anche questo Poi Mi hanno messo I flerken cuccioli Quindi io sono contento Hanno usato I Beastie Boys Che secondo me Come colonna sonora Per il trailer È perfetta E capito Quando io vedo un trailer Così onesto Che ti fa pensare Questo film sarà una cacata Ma in senso buono Per una volta Mi sento Di avere un minimo Di fiducia Perché Non me l'hanno presentato Come qualcosa Cioè Mi sembra Per la prima volta Che non ti presentino Il film Marvel di turno Come un grande evento Quando in realtà Se proprio vogliamo stare a guardare È più un evento Che si uniscano Questi tre personaggi insieme Che sono due personaggi Che vengono dalle serie E uno dai film Che è una cosa Che non era ancora successa Successa a livello Di personaggi protagonisti Piuttosto che un Black Panther Wakanda Forever Un Ant-Man and the Was Quantumania Cioè È più un evento questo Ma non te lo pongono Come un evento Forse stanno iniziando a capire Poi A me l'idea Che stiamo facendo Dele shoot Non fa impazzire Perché a me Questi tagli e cuci E copia e incolla Fanno cagare E si accorgono Una volta che hanno girato tutto Ma non mi convince Rigiriamo le scene È sempre stato così Però è male Allora È sempre stato così Però io noto Che negli ultimi tempi Lo fanno in maniera Un film non più massiccia Però vediamo Più che altro sai che cosa È il fatto di dire Fanno il reshoot Perché non ci convince Il risultato Non dirlo Dica che li stai facendo Perché è la prossima Non dire Ma loro non dicono una mazza Sono tutti rumor Indiscrezioni Sì Però ti dico Una volta era una roba geniale No ottimo Faghi Che è stato il primo A preparare il reshoot Adesso No ma mai il reshoot Guarda I reshoot I reshoot si fanno sempre Però non lo so Sarà che io Questo film proprio Non mi interessava Non mi fa impazzire Captain Marvel Invece Il tono mi piace Poi C'è Nick Fury Che è cosa buona e giusta Effettivamente Cioè Siamo passati dal Non avere più Nick Fury Per un bel po' di tempo Ad averlo in due prodotti Tra l'altro Una cosa voglio dire Perché è una domanda Che mi hanno fatto in tanti In tanti mi hanno chiesto E se quel Nick Fury È uno Skull No perché è il Nick Fury Che vediamo alla fine Di Far From Home E quello che poi In WandaVision Chiama a sé Monica Rainbow Sulla base spaziale Quindi è Nick Fury Punto Anche perché Basta questa storia Ma è uno Skull Basta È stata una cosa Una tantum Perché era sulla base spaziale Fine Basta questa cagata Che è uno Skull Volevo rispondere Volevo rispondere alla domanda Ma infatti Chi non ha visto le serie Non si chiederà Chi cazzo so queste Se lo chiederanno anche I personaggi del film Indie arriveranno Delle risposte Esatto Perché Carol Non sa chi sono Nick Fury Non sa chi sono Guarda Faranno una cosa Molto semplice Una linea di dialogo Esatto Una linea di dialogo E poi se vuoi vederti Chi sono Vai a vederti le serie Ma tra l'altro Allora il problema delle serie Ovviamente è più massiccio Però non è che All'epoca dei film Ci fosse la gente Che stappava lo champagne Di doverseli vedere No 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 Io ho un amico Che non vide Capitan Marvel E se non vedi Capitan Marvel Non vedi l'incontro Tra lei e gli Avengers Eh sì Insane Game Che questi la conoscono già Ed è lei a salvare Tony Lui ma guardate Mi fa Questa qua Gli ha detto Sì la incontravano Nell'altro film C'è tutta la sua storia E lui mi fa Ok vabbè Farò conto Che è una potente E tu totalmente E tu totalmente Semplificato E se ne è goduto Al fine Alla fine Questi non sono film Con questa trama gigantesca Per capire si capisce Non è un problema Comunque come hai detto tu Non conoscendosi tra di loro Si presenteranno E basta Poi se vuoi sapere Chi è Miss Marvel E come ha preso i poteri Ti vai a guardare la serie Peraltro secondo me In questo film Una linea di dialogo Sul fatto che lei In teoria è una mutante La metteranno Perché è importante Perché per molti dicono Svilupperanno il fatto E che è mutante No Secondo me no In questo film Secondo me no Ma sicurati No 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 È ancora presto Però secondo me Una linea di dialogo In cui lei magari dice Che l'hai stato detto Che è una mutante Te la mettono Perché così Perché è una cosa importante Che è una cosa importante Che secondo me è giusto Che sappiano anche Quelli che non si guardano La serie Quindi magari un accenno A quella cosa Lo dicono Per poterci mettere Ancora le note Un'altra cosa Che ormai c'è sempre Filippo Altro quando Beh Avete parlato in sei Quindi Avete detto Praticamente tutto Non è che c'è tantissimo Da aggiungere A parte il fatto Che il tipo Immabagliato In casa dei canna A me è sembrato Un tipo assopito Con il maglione Questo A me sembrava Non lo so Comunque a me invece il primo Capitan Marvel ha fatto cacare oggettivamente, è stato uno dei film Marvel in cui io ho faticato seriamente a rimanere sveglio e non per Brie Larson che ha fatto tante cose diverse in momenti diversi della sua vita il film in sé l'ho trovato veramente una delle cose più deboli, più noiose prodotte dalla Marvel e quindi non ho un particolare per il suo personaggio perché lo trovo antipatico anche nei fumetti Carol Danvers chiamiamola così e quindi anche se non succederà ma se per dire nel futuro il Marvel Cinematic Universe arrivando agli X-Men Rogue le strapperà tutti i poteri e la sua personalità la ridurrà a un uscio vuoto e Carol Danvers diventerà l'alter ego di Rogue per me va benissimo così ancora meglio se fanno fare Rogue a Gianna Ortega detto questo vedo che Michele approva in effetti è un bel casting se penso anche ad Anna Pachin in passato Anna Pachin la nonna ha fatto il suo ma Anna Pachin come ho detto più volte era una Rogue più che una Rogue molto riniscitata era un ibrido tra Rogue e Kitty Pryde per certi aspetti e certi rapporti l'hanno fatto spesso anche in film dell'MCU che hanno sintetizzato più personaggi mentre Rogue e nei fumetti è un soprattutto all'inizio è un cane sciolto è una ragazzina ribelle è difficile da tenere sotto controllo a me piacerebbe vedere una nuova Rogue con la caratterizzazione originale infatti il suo nome significa appunto canaglia The Marvels The Marvels ora premettendo anche il fatto che io ho già deciso come mio progetto che io non andrò più a vedere al cinema tutti anche perché non ho questi soldi da dargli preferisco andare a vedere altre cose li recupererò nel secondo tempo ma li andrò scegliendo quindi non vedrò al cinema neanche The Marvels a prescindere da tutto mi fa un po' sorridere tutto questo parlare del tono del trailer del trailer onesto mi chiedo un trailer onesto il trailer disonesto sì il film non è dentro il film in realtà The Marvels con quello che mette dentro e i personaggi che va a recuperare non poteva presentarsi un po' come una commedia fantastica avventurosa dove io mi aspetto che molto se non tutto ruoterà comunque intorno a Kamala Khan il personaggio di Mario Giovanni e a quella estetica lì anche perché al di là di tutto della riuscita della sua miniserie quello che è riuscito e che ha vinto con il personaggio di Miss Marvel nella miniserie Disney Plus è proprio il personaggio il suo contesto e la sua famiglia che è un supporto molto importante per quanto riguarda l'aspetto che si scambiano di posto come giustamente faceva notare Victor è una cosa che è ritornata in tempi recenti nei fumetti l'ultima che sua volta echeggiava quello che era uno dei capisaldi del Capitan Marvel uomo originale c'è il discorso di condividere i bracciali che in quel caso erano le negabande le chiamavano che era un artefatto cosmico che condivideva con Rick Jones e da un certo momento in poi praticamente uno dei due stava a fluttuare nella zona negativa mentre l'altro si beva sulla terra e quando uno dei due batteva questi bracciali faceva dal richiamo e si scambiava di posto con l'altro che compariva lì al posto suo era un modo anche per richiamare fare un po' il verso il concetto di Shazam perché è un ragazzino che fa boom e si trasforma in un uomo atletico con i superpoteri Shazam che era il primo Capitan Marvel della storia fumetti quando ancora si chiamava Capitan Marvel prima che la Marvel registrasse il brand e diventasse depositaria dell'unico Capitan Marvel utilizzabile mediaticamente quindi penso che giocheranno molto su questo aspetto e i bracciali di Kamala sicuramente c'entreranno qualche cosa il film sarà senz'altro una commedia sì il personaggio di Carol Danvers sta avvenendo pesantemente non pesantemente è stato pesantemente alleggerito in verità perché oggettivamente era una mascella quadrata con una personalità assolutamente non empatica e non empatizzante quindi la la stanno facendo diventare probabilmente si vede anche dalla mimica dell'attrice nel trailer si è vista in passato un personaggio più affabile non so che cosa succederà probabilmente ci sarà un aspetto che giocherà molto sul comedy con questo scambio di posto dei personaggi che si troveranno in situazioni imbarazzanti e in posti fuori contesto per quanto li riguarda e quindi ci sarà un aspetto anche umoristico farsesco e mi sta bene così il personaggio di Carol Danvers aveva bisogno di essere riportata con i piedi per terra pur essendo un personaggio cosmico per il resto non lo so ci sono scene particolari mi fa simpatia il ritorno del gatto per obbimotivi mi fa simpatia il ritorno dei Ferken di Goose poi c'è quella scena misteriosa che non so cosa voglia dire io mi aspetto un po' tu sei il mio sole il mio universo ma non mi dispiacerebbe tutto sommato tanto abbiamo oh nuova ospite ecco la roba non si è resa conto che l'ho io intanto stavo è qui la festa era nel dietro le quinte da 20 minuti è arrivata è arrivata l'aspetto non se l'aspettava no no io propongo io propongo di fare uno scambio ottenere la valent e rinunciare a Michele innocenti mettiamo al voto allora no Michi no no Michi non fare lo scopo con un brontolone non mi sciupare Valentina veramente ciao avete visto che lo scambio è stato con Victor lui è andato via è arrivata la vista stiamo cercando di replicare la dinamica di The Marvels poi lei va via e arriva Victor è un po' così no succede anche questo nelle tue live incredibile salve ragazzi ciao Victor va bene va bene adesso ci stiamo facendo qua i convenevoli nostri scusate 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 ci tenevo a salutare visto che non conosco salve 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 piacere a tutti ciao piacere sono la ritardataria non me la tiro no 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 chissà perché è qui oggi è la Valend non lo so lo so io lo so io c'è un argomentino che ne parliamo ma andiamo in chiusura quindi altro quando Marvels dai oddio non la tiro tanto ancora per le luke tanto è evidente che vi sto vendendo aria fritta perché non c'è più granché da dire quindi si 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 e il pinguino invece ma il pinguino il pinguino questo trailer che non è un trailer è tutto un primo piano di Colin Farrell penso che sia l'unico commento vero che si possa fare quello che si vede è questa fabilizzazione di Colin Farrell che gli funziona benissimo mi è sembrato di leggere tra le righe che ci saranno anche degli aspetti un po' origin storiche ci parleranno un pochino del personaggio di Oswald Cobble mi è sembrato anche dal suo modo di recitare in alcune sequenze che si ponesse l'accento sulla sua deformità e su anche un aspetto forse di complesso fisico che gli crea problemi che gli ha sempre creato problemi il modo in cui cammina esattamente come un papero del resto come un pinguino da qualche parte il nome deve arrivare e quindi sarà anche una storia probabilmente di riscatto di recupero di rilancio della propria vita e di ascesa sì 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 bene bene Svet dici la tua se il gatto magari si leva dal microfono si sente anche bene e ora è colpa del gatto no? allora Michele tanto per cominciare tu oggi proprio sono arrabbiata con te sappi io sono molto arrabbiata con te perché sono due settimane che non mi sono due settimane che non mi cachi e questa cosa mi fa arrabbiata ah gli altarini gli altarini in diretta Michele allora io sto organizzando un mese all'estero e c'ho da fare le fare i miei e poi la tua priorità sono io prima c'è tua madre direi anche no cosa succede ma che bello sono arrivata in tempo per benissimo sì per il gossip devi sapere che c'è c'è questa lore sotterranea fra me e Michele dove ci prendiamo a parolaccio però ci vogliamo tanto bene quindi forse dicono così poi non sappiamo questo trailer è bellissimo voglio voglio una serie tv ma è quella la storia stiamo cercando di costruire una sitcom in realtà perfetto tanto ormai fanno serie tv su tutto perché non farla su di voi guarda che funzionerebbe un sacco anche un secondo lo facciamo già è vero è vero è andata che fa finta di non ora prima che ricomincio a mangiare semi di giracole come Antaro perché ho fame carina e allora partiamo da The Marvels perché è stato già detto tutto dato a tutti voi che siete venuti prima di me perché io sono finita come al solito in coda quindi non so che caspiterina dire se non ripetere magari dei concetti intelligenti che sono già stati detti prima però posso dire che mi fa piacere che si siano resi conto che devono iniziare anche a gettare le basi per fare un po' di team building perché l'intento principale secondo me è anche quello oltre che raccontare comunque una storia già anche meno pesante rispetto alle precedenti e si spera scritta in una maniera magari semplice che però abbia un minimo di senso bello che a me Kamala Khan era piaciuta nella serie mi era piaciuta veramente tanto mi aveva fatto schifo la serie da un certo punto in poi le prime due puntate che è un po' il destino di tutte quante le serie Marvel le prime due puntate fantastiche dalla terza in poi che è successo i sceneggiatori sono scambiati di posto e hanno deciso di fare un pastrocchio terribile però vi dico sono contenta ho intravisto ma forse sono io che mi voglio autoconvincere un po' di chimica fra loro tre che può funzionare è un trailer chimica italiano medio proprio basso io veramente io cosa va bene andiamo avanti io sono cercato di fare bella figura davanti a Vale è una canzone orecchiala sono ancora emozionata perché non sono stata avvisata di questo arrivo e sono emozionatissima tu lascia fare grandi sorprese le grandi sorprese lascia fare bella figura con me io sono già innamorata questa ospitata era in lavorazione da un mesetto dammi tempo dammi tempo tu sei una persona perfila che mi mette davanti queste cose no comunque in definitiva sono sono incuriosita mi ha messo leggerissimamente non dico hype però una scintilla in più di emozione cioè io ho fatto il confronto con gli ultimi trailer da post Avengers in poi e la sensazione principale è stata il nulla proprio il nulla qui ho iniziato a riprovare quella curiosità che mi fa pensare ma magari almeno mi diverto non dico cerco non cerco neanche quindi i trailer di Spider-Man erano nulla chiedo ma guarda allora tu mi hai affibbiato un entusiasmo che io per Spider-Man non avevo cioè io avevo semplicemente della curiosità per vedere che cosa avrebbero combinato ricordavo di essere l'unico pirla che diceva per quanto per quanto a me abbia divertito il film però c'è resta una roba un patchwork di opinioni di fan essenzialmente ero curioso di sapere un ottimo risultato per The Marvels ma guarda vediamo un po' vediamo sono aperta a tutto Pinguino inutile dire è una delle cose che aspetto di più cioè di tutti gli annunci che sono stati fatti su Max sull'arrivo di Max questo è quello che mi ha entusiasmato anche più di quello di cui parleremo nel main event perché io ho un'opinione molto forte a riguardo che dirò dopo bella l'atmosfera la scorsese mi piace tanto per quanto io non sia una grandissima fan di The Goodfellas eccetera eccetera comunque i gangster movie mi piacciono relativamente poco però per come me lo stanno impostando da quello che posso dedurre dal teaser la cosa mi può interessare anche perché va anche ad approfondire uno dei miei personaggi preferiti a livello fumettistico uno dei miei cattivi preferiti quindi sono solo contenta e bello bello veramente bello rivedere Cristi Migliotti perché è una bravissima attrice la devono utilizzare un po' più spesso e non è più molti se la ricorreranno ancora solo come la madre di Oh Meteor Madre in realtà non è affatto ma al dire di tutto è un'attrice veramente brava è anche in The Wall Street quindi era la moglie la prima moglie e mi rendo conto in questa diretta che c'è stato un impiccio un impiccio ma Paolo ha detto la sua su Sti Trainer certo che ci ho detto sì veramente sì assolutamente vedi e dicevo ma lui ha detto qualcosa no lui ha detto perché ne ha parlato male non le ha detto e quello lui le ha battute di mezza Mattioschi la verità si è divertito io ero vedevo lì ed ero affascinato e pensavo è proprio bello ma no perché è l'opinione negativa vorrei sapere di più e non me ne frega nulla la verità la verità è che di quello che dice Paolo adesso mi ricordo il prego anche chiesto ma se non fosse collegato al resto dell'universo vedi uomo ha fatto la domanda l'hai anche risposto male perché mi ricordo che The Marvel ci aveva fatto uno schifo e il pinguino un pochino ha detto ma io volevo più cattiveria siamo tutti troppo d'accordo ma infatti l'hai maltrattato l'hai anche maltrattato ma Mattia non ti preoccupare che probabilmente qualcuno diventerà singolo oggi dopo il Menevent io te lo dico dico solo questo Victor ti devi preparare no non è vero perché mi ci penso era una frecciatina c'è già le carte del divorzio non mi ricordo quello che faccio d'altro canto l'età avanza per tutti la barbariare è di vogliarlo va bene va bene quindi adesso ovviamente la nuova ospita anche della pressione in più su di lei molto ascoltiamola ascoltiamola tanto non ti preoccupare tra 20 minuti mi sarò scordato vai cosa volete devo davvero dire la mia dopo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 persone che hanno parlato benvenuta nel mio mondo e ci teniamo a me capita di continuo perché sei sempre l'ultima ad arrivare arriva proprio è in ordine di chi arriva nella web è un delirio e non siamo nemmeno al Meneventi ne la prendo tanto l'ultimo a parlare sarò io o forse ho già parlato e non te lo ricordo sarò breve sarò breve con Cilla The Penguin io io ho amato il pinguino di Colin in The Batman e ho avuto davvero tanto piacere di vedere un trailer e sapere che avrebbero fatto uno spin off su di lui perché mi sembra uno dei personaggi che più di tutti ci ha avvicinato alla vera Gotham al vero Batman al vero Batman detective impregnato nella mafia nella Gotham che si autodistrugge che si autosabota continuamente quindi quando hanno quando ho visto il trailer effettivamente come diceva la Svet forse mi sono emozionata di più che poi di quello che parleremo dopo di quello di cui parleremo dopo Colin Farrell non è mai stato un attore per cui ho provato dell'amore anzi negli anni l'ho davvero odiato ogni volta che c'era un film con lui dicevo Colin Farrell suora c'è da putare una 7 era per il fatto della memoria della battuta dell'amnestia comunque invece l'hai rivalutato e invece ultimamente l'ho rivalutato poi con Pinguino sono sono molto contenta e passando invece a The Marvels di sicuro non è il mio genere di cinecomic io quando sono attratta dal cinecomic sono attratta un po' dal lato scuro sempre sono sempre più stata innamorata della parte appunto di Batman X-Men mi è piaciuto molto come hanno trattato i guardiani della galassia ma questo filone un po' cacciarone con queste camerette con i poster con questi ritmi un po' giocosi not my cup of tea quindi voglio lasciarmi sorprendere perché non mi è piaciuto Captain Marvel non non mi è intrattenuta non mi sono divertita nemmeno con Miss Marvel non non è il mio genere quindi veramente spero che alla fine di sto film dirò wow mi hanno fatto cambiare idea se non il contrario nel senso spesso ultimamente succede che arrivo carica come per Ant-Man esco dalla sala che voglio spararmi invece invece magari questa volta succederà qualcosa di diverso no? vedremo sì sì anche se il pianeta musical lì non depona a favore della cupezza scusate comunque Alvielle scrive la più negativa finora anche lui non ha sentito Paolo quindi ma perché Paolo è stato cancellato da questa live portale inizionale Paolo ha detto di non essere l'unico pirla grazie ma no è cambiato dall'esistenza è come me non ci sono oggi non ci sono io vado rapido Mattioschi le volevo fare un meraviglioso preambolo al suo intervento lei lo sa che Shoré Agdashlu è tra le doppiatrici di Arkane è tra le doppiatrici di Arkane e sarà nel film di imminente uscita a Renfield meditate posso fare una piccola aggiunta io lei l'ho intervistata ed è una fregna spaventosa da più di 60 anni ed è in una forma sì no ragazzi c'è una cosa io lì l'intervistata dicevo minchia ero brubilato non sentivo ha detto anche Paolo Innocenti ma non l'ha ascoltato sì esatto non l'ho sentito comunque chi le voleva far vedere che sa pronunciare bene il nome della signora che io non mi azzardo neanche a pronunciare sono d'accordo con voi ma con chi in particolare con voi con qualcuno con questa il pinguino effettivamente ha provocato dei sommovimenti tellurici in zone particolari sapete che The Batman mi ha entusiasmato oltremodo compreso questo personaggio e sono curiosissimo di vederlo all'opera per quanto riguarda The Marvels anche io l'ho trovato abbastanza carino in realtà non dico che sia questo trailer spalanca mascella però mi ha fatto piacere vedere innanzitutto che un minimo ci raccontano l'incipit a differenza di quanto hanno fatto con gli ultimi film e c'è questa questa gimmick dello scambio poi non dei corpi ma più che altro di posizione che può dar vita a delle situazioni divertenti loro tre sembrano funzionare sembra un film anche incentrato sui personaggi qui non è che ci hanno parlato della minaccia cosmica hanno parlato di loro tre e di quello che capita a loro tre e secondo me negli ultimi film sta mancando proprio questa componente perché la Marvel quella di maggior successo ci faceva affezionare i personaggi protagonisti non ai cattivi salutoni a Kang tutta la campagna marketing di Quantumania i risultati sono arrivati qualcuno si è affezionato a Kang no appunto ma chi è Kang è il cattivo è il nuovo è il nuovo super villain della fase lo so è quel personaggio così carismatico era una battuta non te lo ricordi l'unica perplessità effettivamente la sezione pianeta tropea perché dovrebbero aver girato a tropea non solo per la componente musical che però può anche durare il tempo di una sequenza io già lì prevedo Kamala Khan che si lascia irritire e comincia a ballare assieme a loro tanga arriva Carol Danvers l'unica cosa positiva era il momento musical che ho detto attenzione forse questa roba mi interessa nella scena lei è l'unica vestita cioè dietro si vedono loro due vestiti normali lei è l'unica che ha questi abiti forse sarà costretta a fare un ballo per un principe innamorato di lei se con le cazzate lì tra l'altro a tropea dove si reca Russell Crowe nell'esorcista del Papa se nominavi ancora l'attrice di prima chiedevo non c'è oltre oltre a quello mi sembra una location un po' fintina che ha tanto sapore da serie tv ma d'altro canto anche le riprese di questa pellicola sono avvenute ancora con il regime covid in corso e secondo me tante storture che stanno arrivando derivano anche da quello non che sia una scusante però The Batman infatti ad esempio ha preso a schiaffi tutti ma io lì un po' temuto il pianeta lì lo temo sai cosa è un po' come è un po' tipo la questione del di Halo la serie di Halo che io un po' le ultime puntate che non funzionavano glielo ho perdonata perché non è colpa loro dovevamo farla è arrivato il covid diciamo che il covid ti permette di accettare un po' più di buon grado certe cose che non accetteresti in condizioni normali ecco secondo me come è fatto a dire che è stato Kang era un attecchire come villain in Quantumania guarda il risultato al botteghino e poi facci una tesina sopra ciò detto andiamo con il main event sentiamo la valanga di stronzate che usciranno dalla tua bocca assolutamente no assolutamente no questo è un film di cui io so già il finale vai tranquillo lo so quale sarà il finale tutti davanti alla televisione oh che bella oddio aspetta che arrivo cioè dai è sempre così però mi limito a fare un'introduzione non esprimerò alcun tipo di giudizio per ora sto male per ora annunciata lo sapevamo già da due settimane ma adesso è arrivata l'ufficialità la serie tv reboot remake chiamata di harry potter annunciata con un teaser che ha proposto contenuti inediti no aspetta non devo giudicare avete ragione annunciata con un teaser con un teaser io vi leggo il comunicato riportato dall'hollywood reporter e poi dibattiamo l'hollywood reporter ci dice questo ecco come la serie è stata descritta da max che è il nuovo nome del servizio un tempo conosciuto come hbo max le storie dei libri di harry potter diventeranno una serie lunga un decennio decade long prodotta con la stessa cura l'amore per cui questo franchise è già globalmente conosciuto la serie presenterà un cast inedito che verrà dovrà riuscire a catturare una nuova generazione di fan ci saranno i consueti mondi fantastici personaggi amati le ambientazioni che i fan di harry potter hanno amato per più di 25 anni ogni stagione sarà fedele ai libri originali e porterà le avventure di harry potter a nuovi spettatori attorno al mondo mentre i film originali classici amati resteranno al centro del franchise e disponibili per tutti da guardare e già questo è curioso questa ultima affermazione che cosa vuole dire è una frase che non sta rilevando nessuno ma dice io quando ho fatto il video ne ho parlato secondo me vogliono dire semplicemente che il fatto che facciano una serie reboot non significa che il wizarding world al cinema si fermi d'altronde è una roba molto Warner abbiamo il Batman di Reeves però hanno annunciato un altro Batman cioè secondo me fanno così quella la fanno per Max ma il wizarding world non finisce sulla scilla principale anche perché prima o poi scusami Paolo è anche scontato però è detto malissimo si è detto male però posso posso dirti che secondo me secondo me non c'era neanche bisogno di dirlo è vero che i prassi della Warner tipo gli annunci di Gunn è un reboot raga la Waller però attenzione questo serve per Max io non ho mai avuto dubbi che la serie non avrebbe fermato il resto di Harry Potter ma figurati secondo me semplicemente loro pensano possiamo prendere soldi da tutte e due le parti tanto la gente li va a guardare sì sì penso una maledizione delle rede prima o poi adesso li stanno ridando al cinema per gli anniversari ecco modo per dire guardate che continuerà ecco ecco uomo ecco uomo grazie per per il per il servizio l'assist esatto gli anniversari questi sono comunque per citare il personaggio di Peter Sellers in Invito a Cena con Delito la mia reazione a questa cosa è io perplesso io perplesso senza verbo vorrei fare notare che il 24 aprile torna il Superman di Donna al cinema ve la butto lì ve la lancio vabbè perché in The Flash comparirà il fatto è che il fatto è che appunto quei film comunque sono ancora estremamente iconici tanto è vero che ne parlavo prima con Mattia per questo annuncio hanno messo una foto che ritrae la Hogwarts dei film e usano il tema di di John Williams poi allora lungi da me dire che la serie io non sto assolutamente dando per scontato che questa serie sarà una merda assolutamente no perché può venire comunque fuori una cosa diciamo carina però quello che mi chiedo è a chi è rivolta questa questa serie chi è che anche paradossalmente anche penso anche a generazioni molto dopo la nostra i bambini più piccoli essendo che questi film sono ormai diventati un classico di Natale e ogni volta che ci sono i rewatch fanno i picchi di ascolti penso soprattutto al campione italiano perché Italia 1 li trasmette sempre e tutte le volte Italia 1 ci dice che i film hanno fatto il picco e quindi quindi se anche le generazioni più giovani penso appunto ai ragazzini che adesso hanno l'età che a R nel primo libro magari hanno conosciuto la saga tramite questi film questa serie a chi parla che hanno sei anni in giù a loro ugualmente esatto la tua osservazione è corretta questi film li rifanno a ripetizione li hanno visti più generazioni però il fatto che li abbiano visti non significa che li percepiscano interamente come loro che non possono percepire come più loro qualche cosa fatta appositamente per loro d'accordo completamente d'accordo magari effettivamente sì effettivamente questa cosa l'unica no chiudo solo una cosa l'unica cosa positiva che appunto mi hai fatto venire in mente grazie Filippo effettivamente è l'esperienza che noi abbiamo avuto aspettando i vari film questa è l'unica cosa effettivamente non avevo pensato però per il resto resto alquanto è l'unica cosa che serve alla nuova generazione che ha riscoperto Harry tramite i social quando è uscito è lì il potere dei social che ha fatto riscoprire qualcosa che noi abbiamo vissuto e che loro effettivamente non sentono loro perché noi ci permettiamo ancora di dire ma tu cosa ne sai noi siamo cresciuti no 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 questo non mi azzarderei mai a dire una roba noi come generazione io non sarei d'accordo io ti sento per due motivi magari sarò affortunato io ma c'è una libreria a Gallarate dove vado molto spesso c'è il reparto Harry Potter letteralmente ci sono tutte le edizioni dei libri le bacchette in vendita è pieno così di bambini pieno ma ripeto sarà un mio caso mi risulta che i parchi di divertimento del Wizarding World siano sempre pieni così ma vabbè seconda cosa a me piace molto come questione di principio poveri bambini non si identificano l'ultimo ritorno al futuro parte 3 del 1990 avevo due anni mi sono sentito pienamente identificato è una delle mie no no Mattia allora forse non mi sono spiegato perché non è che si è entrato in questo non è che si è identificati eccetera perché figurati se io alla mia età mi metto a dire che lo sforzo di identificazione con classici di 50 anni fa o cose varie il King Kong del 33 rimane quello inarrivabile con tutti i suoi trucchi rossi dell'epoca rimane un capolavoro in cui ogni sequenza è un quadro è un qualche cosa che nessuno dei suoi seguiti dei remake vari per quanto ispirati più o meno siano riusciti a fare e per questo potremmo dirlo di tantissime riletture e remake nel corso della storia del cinema cioè il punto non è questo il punto è puramente sociologico e commerciale perché sì che i bambini abbiano un grosso affetto nei confronti dei franceschi e di Harry Potter e di quell'Harry Potter lì non è una cosa in discussione e semplicemente e non è neanche da dire cioè non è che qui in questa conversazione stiamo facendo oggi in live il discorso è è giusto o sbagliato che venga prodotto un reboot televisivo della serie perché non è oggetto di contendere non è giusto o sbagliato se entriamo in merito a questo discorso potremmo fare dei ragionamenti filosofici sulla cultura sulla ripetitività delle cose che lasciano il tempo che trovano o che potrebbero avere anche importanza ma che non ci interessano nel caso si belli la pigrizia non lo so la pigrizia in generale c'è per quanto riguarda tante cose nel appiattirsi sui brand noti eccetera e il commercio sono dinamiche alle quali non possiamo fare a meno di di accettare che esistano non che sono buone o cattive funziona così dai doni dalla seconda parte ai doni della morte sono passati 12 anni che di per sé non sarebbero neanche tanti però volendo dal punto di vista 12 anni in cui la forza del brand non è mai il punto non è la forza del brand per chi lo percepisce così perché nel momento perché dal punto di vista puramente commerciale mediatico nel momento in cui produci qualche cosa di nuovo di ringiovanito per una generazione più giovane la forza di vendita la forza commerciale la pill commerciale del prodotto sicuramente ce l'ha ecco il bilancio e qualche cosa che si propone non è detto e poi riesca perché poi per dire la serie potrebbe anche non piacere ed essere cancellata dopo una stagione però io sono un po' l'intento ma però si tratta di essere d'accordo o non essere d'accordo si tratta di analizzare una dinamica perché quando hanno fatto The Amazing Spider-Man dall'ultimo Spider-Man di Sam Raimi da Spider-Man 3 che è uscito nel 2007 2007 5 anni 5 anni quindi molto 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 meno di adesso c'erano degli altri motivi c'erano delle altre ragioni la stessa cosa perché riportano una saga letteraria ma neanche tanto perché anche Spider-Man si basa su un concept molto forte che veniva in qualche modo riproposto a distanza di pochissimo tempo sono delle dinamiche e una chimica del mercato che è quella che è è quella che è e da quel punto di vista per come funziona oggi e non è che sto dicendo che mi piaccia poi non deve piacere a me è che in quel caso i film di Spider-Man vennero fatti perché la Sony mi sembra rischiava di perdere i diritti e qui la Warner non rischiava di perdere i diritti del reporter ci sono tante cose da dire però a parte che secondo me invece confrontarci su giusto sbagliato tra virgolette è un po' il sale della discussione sì ovvio ma ma dire il vero io non ho mai visto io ho scritto trionfo della pigrizia a me sembra veramente una prima volta non credo ci siamo in stato un'operazione così smaccatamente triste e pigra io leggo in chat ma c'era bisogno di ridare vita al brand ragazzi è appena uscito Hogwarts Legacy è il gioco più streammato di sempre su Twitch questo brand funziona questa saga funziona semplicemente hanno sentito un po' di strizza per animali fantastici probabilmente come risulta da alcune indiscrezioni hanno provato a chiedere alla Watson a Green di tornare hanno ricevuto il due di picche riraccontiamo la stessa storia che quella lì che conoscete già tutti con una serie tv di sette stagioni mentre nel frattempo pare decomunicati comunque al cinema continuiamo a fare delle cose io non intravedo nessun senso se non i soldi che si prenderanno loro e mi fa molto piacere ma è cambiata la condivisione secondo me la condivisione della community e della cultura pop in questi anni è drasticamente cambiata le persone non vogliono solo parlare di cose passate vogliono condividere l'idea di una nuova uscita di cosa succede nella puntata di quello che potrebbe succedere nella puntata è una cosa che però questa cosa avrebbe avuto senso questa cosa se avessi fatto avessi preso uno stralcio della mitologia di Harry Potter tipo i malandrini che io batto ancora i piedi per questa cosa e lì sarebbe stato ma lo fanno la condivisione della community sarebbe stata ancora più forte perché intanto leggo che quello che avversi non c'entra una con Harry Potter no no c'è solo scritto wizard in world ma state scherzando inizia il delirio perché queste sono le classiche queste sono cagate mi prendo la responsabilità del termine e sono cagate ma regà dai la comprensione di un testo di Obama io posso capire questo principio ma allora rifacciamo i primi tre star wars rifacciamo il signor ma poi lo faranno lo faranno per questo ti dico non è questione di giusto di sbagliato possiamo discutere quando ne vogliamo ma per noi sarà sbagliato comunque ma allora comunque ragazzi rifare i tre star wars adesso ha più senso che fare una serie su Harry Potter però io mi chiedo per quale motivo perché scusa io sono convinta io adesso parlo ai noi del futuro io sono convinta che se questa serie è bella saremo i primi a stare lì a guardarla dico solo che tutto qua tutto l'intrattenimento gran parte dell'arte è fatta per soldi questo qua ormai l'abbiamo capito ci siamo messi l'anima in pace a me è da infatti ma è da fare l'anima in pace è normale se a me l'anima in pace capita per casa in mezzo vabbè non stiamo a filosofeggiare però per dire grazie è fatto per soldi lo capisco è fastidioso quando ed è un problema che ho riscontrato anche per quanto riguarda i prodotti Marvel viene fatto pigramente solo per quello perché è scontato che questa probabilmente sarà la serie più vista ma nemmeno su Max su qualsiasi piattaforma mai creata da qui in poi è scontato perché è un usato garantito ora ha senso se tu mi fai un remake della prima trilogia di Star Wars perché la vedi la differenza gigantesca anche dal punto di vista tecnico per quanto riguarda Harry Potter io magari la parte di me bambina è anche contenta di rivedere tutto quanto in un'altra chiave di vedere magari delle cose approfondite che sono state tralasciate nei film ma non riesco a pensare che secondo me si poteva evitare proprio perché anche forse Harry Potter è uno dei pochi casi dove qualcosa di precedente alla generazione Z in questo caso che è quella più in vista quella più vicina ai social eccetera eccetera comunque la sentono vicina basta vedere su TikTok è pieno di gente che fa i test su Harry Potter le challenge su Harry Potter ed è della roba che è nata prima del 2006 che è più o meno il target di TikTok quindi l'affetto c'è è una cosa che è diventata multigenerazionale ormai tutti quanti la tangono a cuore quindi secondo me non ha molto senso se no il fatto di sfornare soldi perché la Warner ha bisogno di quello avrei come preferenza personale avrei preferito qualcosa riguardo l'universo di Harry Potter neanche Wars Legacy perché c'era qualcuno che parlava anche della serie su Sebastian e Wars Legacy e lì secondo me non avrebbe avuto molto senso però anche solo sui malandrini che comunque erano dei personaggi molto amati mi tiri fuori un pito nella gente piange perché si ricorda di Alan Rickman cioè anche quello paradossalmente era un successo assicurato questo effettivamente io non posso non condividere con Matioski nel definirla come un'operazione un po' pigra sì però scusate cioè è vero però lo so che non è un paragone proprio completamente perfetto perché quello che sto per dire si tratta più di personaggi che di storie scritte fatte finite però mi sembra un annuncio che è perfettamente coerente con lo specchio degli ultimi anni abbiamo 126 Batman 12 Joker 36 Spider-Man cioè non mi sa a me non sembra poi io ho letto anche altre cose tipo gente che dice ah per me Pitons sarà solo Alan Rickman ma non è vero no questo non è vero ma ti dico che non è coerente nemmeno con la visione di Zaslav una cosa del genere con quello che Zaslav ha detto mesi fa ma per niente ma Vona è stata coerente con se stessa ti chiedo e vabbè però dai volevamo un attimino fermi un attimo abbiamo nominato personaggi fumettistici che esistono da 100 anni già nei fumetti ci sono versioni alternative e poi comunque anche all'epoca un po' di perplessità l'abbiamo tirata fuori ma erano le stesse perplessità io dico solo che se si abbraccia con benevolenza questo progetto io non voglio più sentire la mentele sui live action della Disney fanno bene attenzione però ferma la mia mente sulle versioni Disney è che fan cagare 10 anni dopo la fine della serie è che rifacciano i film perché tanto i poveri ragazzini i poveri bambini poi non riescono se no a cioè il punto è che se non è io non capisco il clamore il clamore che vedo in alcuni spazi non parlo di qua ma in generale più che altro per il fatto che non è che ti va a cancellare il resto col Wizarding World ma sono sicuro che continueranno quindi è semplicemente come hai detto tu una roba per i soldi e su questo non ci piove per me personalmente di rivedere dei film con una fedeltà maggiore cambiando alcune cose a me francamente è una cosa in più non capisco cioè sembra quasi che con questa mossa prenderanno tutte le copie dei film le bruceranno e chi le guarda viene sparando quello che hanno scritto quella cosa alla fine del comunicato come se vi stessero rubando l'infanzia ma su questo credo che siamo d'accordo sul fatto che il media te lo permette cioè io credo che il media ma sì ma il media ti permette di approfondire cioè io che ho una conoscenza solo cinematografica magari una serie del genere può aiutarmi può evitarmi di comprare i libri perché magari sarà molto molto più esaustiva da quel punto di vista io credo che su questo siamo d'accordo voglio evitare di comprare i libri non è una cosa che mi fa tanto piacere perché all'esperienza della lettura è un'altra cosa ancora e io la so la guarderei sempre no 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 però per dirti Filippo magari dice sai è che io vedo vedo un brand fermo che non va avanti che rimane lì e oltretutto questo Zaslav se vogliamo espandere la cosa che era arrivato in pompa mandia alla Warner cazzo l'idea geniale è vi riracconto Harry Potter in tv in streaming hanno bisogno hanno un bisogno disperato di soldi e quindi puntano sulle cose più sicurentiche ma va bene poi avrei dei dubbi anche a livello cominciare ma va bene puntare sul brand di Harry Potter perché è un brand che tira forte quindi quello va benissimo solo non è il primo progetto no no guarda ti dico per me la stessa cosa la sta facendo con Game of Thrones lanciamo lo spin off su Dunk Egg cioè la ribellione del fottuto Robert Baratel ma volete farla? ma perché? cioè sono quelle cose talmente ovvie come la serie sui mandorallandini la serie sui fondatori puoi fare una serie su primo ordine con i genitori di Harry i protagonisti non le fanno perché hanno un margine di rischio che ora come ora si cagano troppo addosso per poterselo permettere cioè io fossi loro l'avrei fatto queste cose qui è ovvio che mi ha più senso delle serie spin off però Game of Thrones è nata come serie tv e al massimo abbiamo potuto ravvisare la qualità maggiore di stagione in stagione questa deve essere qualità alta fin dall'inizio perché i film di Columbus noi li abbiamo tutti a prescindere quindi le prime due stagioni sono quelli lì la gente perché adesso nel giro di 24 ore tutta la saga cinematografica di Harry Potter è diventata una merda quindi già film orribili terribili per fortuna che arrivano loro generosi dopo tutti questi anni a dirci che lo fanno fedele stavolta spoiler se avete visto solo i film la trama è quella ragazzi la trama è quella lì è infatti questo quello che vuole non so ma poi la fedeltà adattando come non adattando anche al livello del linguaggio televisivo che il gioco forza sarà qualche cosa che si prenderà più tempo avrà dei ritmi più dilatati avrà magari più dettagli ma gli adattamenti ci saranno sempre comunque quindi qualcuno che noterà qualche infedeltà e queste ripeti ci saranno ma anche qualche filler magari potrà esserci non è che va raccontato tutto io sono delle cose ci sono delle cose soprattutto negli ultimi film che a me piacerebbe vedere sullo schermo per quanto i film andassero bene però per dire vedermi magari che cazzo ne so il torneo tra maghi fa tutto ma no ma non quello però tipo ad esempio la questione dei flashback di volto diventa fedele se nell'ordine della Fenice mettono il Sambungo lo vogliamo vedere tutti l'ospedale dei maghi però ti posso dire che se mi mostro il Sambungo a me fa piacere è una cosa che magari mi piace vedere uno dei motivi per cui detesto il quinto film è perché manca quella sequenza fra l'altro vedi io ne ho né letto né visto il film quindi tu lo dici tu lo dici come provocazione ma guarda che in realtà se la fanno a me fa piacere oppure non lo so la questione del flashback di Voldemort che secondo me se uno non aveva libri era un po' incasinato come spiegazione ripeto nulla da dire sui film il sesto a me non è piaciuto il quinto è anche per me il livello è calato con l'arrivo di Yates però il fatto non è che non penso che fosse necessario io ci feci una live due anni fa una live intera in cui mi chiesero cosa faresti io farei una serie debut tanto sfruttare per sfruttare se mi mettono delle cose che mi sarebbe piaciuto vedere per quanto non fossero strettamente necessarie mi vai a creare un qualcosa di leggermente diverso che potrebbe essere piacevole da guardare è ovvio la condizione sine qua non è sempre che deve essere fatta bene magari se mi crei un'estetica leggermente diversa a me non dispiacerebbe ce n'era bisogno assolutamente no sono contento per il fatto che abbia annunciata sì è una cosa in più magari vi non farò una scelta pazzesca però poi leggo i film di Columbus hanno tagliato roba a parte che non è vero perché non è vero poca io ho appena riletto La pietra filosofale c'è tutto e anzi ha tagliato delle parti problematiche tipo Hagrid che se ne sbatte le balle quando Harry e Dermione finiscono in punizione per colpa sua nella foresta proibita è colpa di Hagrid perché non ve ne siete mai resi conto perché Columbo si è tagliato nel film bravo ma a livello narrativo Harry Potter il problema è questo Harry Potter a livello narrativo ha tantissimo ancora da dare ma a livello cinematografico non aveva più niente da dare perché adesso non avrebbe avuto senso rifare come diceva prima la Svet degli spin off dei prequel troppo tardi il modo in cui hanno gestito la saga di Harry Potter all'epoca è stato troppo povero adesso si sono resi conto che potevano fare molto di più ma non avrebbe più senso farlo adesso sarebbe troppo rischioso perciò cosa facciamo per anni ci pensiamo e poi ok prendiamo lo rifacciamo da capo tutto da capo e ci attacchiamo spin off prequel ve la spieghiamo tutta come ve la volete voi perché hanno capito la potenza di Harry Potter adesso che le nuove generazioni nonostante tutto fanno la fila per comprare ancora i libri quando è uscito Harry Potter e allora perché è troppo tardi però fanno la fila anche è un brand veramente il modo di fare i film è cambiato è un brand veramente ma fanno la fila anche per comprare il merchandise iconico però di quella saga l'altra immagina fare degli spin off adesso con quello stile lì che è proprio è affascinante proprio perché nel passato non credo sarebbero in grado cioè comunque cinematograficamente parlando Harry Potter quella saga lì è fatta in un certo modo poi i cambi i registici tutto quello che vuoi ma è chiusa in quella bolla lì non è difficile rientrarci è difficile perché doveva essere chiusa lì se invece adesso realizzano un prodotto apposta per rimanere aperto possono lasciarlo aperto come vogliono lungo dieci anni però eh dieci anni dieci anni deve al cinema che tra l'altro tra l'altro posso dire che questa chiusura non l'ho non l'ho mai percepita anzi ho sempre visto molte generazioni nuove interessarsi guardate che fino ai crimini di Grindelwald la gente ci credeva non è che è troppo tardi non è che è troppo tardi è che può essere rischioso per me non lo è nemmeno però posso dire una roba secondo me io ho come l'impressione che colgo la pallalbazza e le stagioni diventano otto secondo me se la serie va bene e la maledizione del Redd te la buttano dentro il problema del seriale è proprio questo che se la serie va bene ne fanno di più se la serie va male cominciano a chiudere secondo me se la serie dovesse andare bene ma va tu credi che non possa andare male ma tu pensi di riuscire a sostenere questi se va male è perché è entrato in gioco qualcos'altro e la gente ha attenzione altrove ma non andrà mai male intanto io ho letto una roba in chat che voglio immediatamente correggere Fantastici Animali Fantastici ha flopato va bene il primo film nel 2016 si porta a casa 814 milioni sai perché quelli dopo sono andati male perché erano brutti la gente ci credeva ad Animali Fantastici ma perché erano brutti il primo che non aveva manco Harry Potter o Guards nel titolo Animali Fantastici dove trovarli 814 milioni ma banalmente non c'è bisogno di errati no se la sono rovinata da sola quella è palese il primo era molto carino banalmente l'hai detto anche tu Mattia Hogwarts Legacy la gente ha comprato un gioco pur non essendo videogiocatrice e chi magari non poteva o non era interessato a giocare ha guardato streaming a motore infatti è il gioco più filmato nella storia di Twitch sempre su Twitch però se posso secondo me è lungo un altro no no finisci Svet finisci non ti preoccupare no no povero Paolo no allora partendo dal presupposto che è vero c'è pigrizia vai ascoltami bene scarseggiano le idee originali questo lo sappiamo però sinceramente da fan accanito della saga di Harry Potter in genere fantasy non è quello mio di riferimento però con Harry Potter ci sono cresciuto aspettavo ogni film in sala purtroppo per me la magia si è persa con l'arrivo di Yates infatti per me dopo il quarto Harry Potter va ad affossarsi da fan dico proprio che bello che ci sia una serie televisiva scarseggiano le idee ok questo è vero ma ormai l'ha detto anche Victor stanno facendo remake rifacimenti di qualsiasi cosa quindi prima o poi a distanza di quanto 12 anni dai doni della morte era quasi era quasi palese scontato che prima o poi sarebbe successo così come succederà con Star Wars e con qualsiasi altra saga ti amiamo io vorrei una serie televisiva di it eh anch'io la vorrei no no ma ma l'hanno già annunciato il prequel ma non il prequel no proprio tu dici un reboot poi tra l'altro scusa Paolo vai no volevo volevo solo dire io penso quanto possa essere bello anche per queste nuove generazioni che è vero hanno imparato ad amare i vecchi film la soddisfazione di dire mi godo l'arrivo della nuova stagione come noi bambini aspettavamo il film perché i nuovi bambini di oggi non possono godersi sì ragazzini bambini come quando ero un bambino io cioè aspettare la serie poi il film resta lì il film lo puoi vedere quanto vuoi magari lo porteranno avanti cinematograficamente parlando io penso che serialmente parlando si possa fare anche un qualcosa di migliore rispetto a ciò che poi ha fatto Yates ma non per quanto riguarda la fedeltà lo sapete sotto quell'aspetto a me non frega niente perché sono due media differenti massimo rispetto per il cartaceo massimo rispetto per il cinematografico a me basta che la serie sia bella in chat vedo persone che scrivono eh ma la storia già la sappiamo però non importa il cosa importa il come altrimenti non esisterebbero i remake cioè se qua trovano un regista capace più registi capaci e ci fanno vivere delle belle esperienze fanno appassionare altri fan richiamano in causa quelli vecchi che male c'è si spera sia bella però non la vedo così grave come cosa che male allora si dovrebbe fare il reboot di tutto di tutto ma si farà però ha senso che ci sono delle fonti letterarie ci sono degli archetipi versioni diverse anche il piacere di vedere letture diverse interpretazioni diverse pensate al teatro e a tutte le regie differenti le interpretazioni di attori differenti è un qualche cosa che ha una sua bellezza un suo interesse certo però in chat in chat perché io non riesco a leggere impossibile fare un nuovo Harry Potter ma perché impossibile ma perché pensate quello è un'estremizzazione mi sembra di essere in un multiverso allora abbiamo capito che ho una memoria scarsa però abbiamo fatto 200 puntate di facce di nerd ma quante volte parlo in maniera generale perché non posso associare un'opinione a qualcuno di specifico ma quante volte ci siamo lamentati per non hanno più idee continuano a fare remake continuano a fare reboot cavolo questo per me è l'apice della mancanza di idee si chiama accettazione dopo così tanti mi fa piacere io non accetto guarda ti posso dire una cosa io prendo un esempio su di me fino a un po' di tempo fa fino a qualche anno fa quando annunciavano un recasting di un personaggio che aveva la pelle scura o comunque che cambia l'etnia mi triggeravo adesso non me ne frega più un cazzo perché perché ho capito che la tendenza è quella e che poi alla fine nella maggior parte dei casi quegli attori che scelgono sono pure bravi il personaggio va bene penso ad Arondi negli anelli del potere quindi ormai a me di quella roba lì non me ne frega più un cazzo non sto neanche a pensare è giusto non me ne frega niente la stessa cosa qua è così dopo tanti anni dico tanto poi ci penso alla fine nella maggior parte di quei casi si urlava si strepitava usciva il prodotto e tutti con il cazzo in mano a sborrare sullo schermo scusate la volgarità però è così e allora a sto punto mi risparmio la parte di mangiarmi il fegato prima e parto subito la parte ma un conto è risparmiarsi un conto è dire ma si è così va bene oppure come ho visto tanto a me va bene a me va bene ragazzi ma non fa qualche di macchioschi sì che ci sia la pigrizia che ci siano le cose ripetute che si facciano sempre le stesse cose è vero e oggettivamente è un un andazzo generale di Hollywood della macchina dello spettacolo che si è o inceppata o semplicemente arrugginita e punta su cosa di vendita sicura è così da sempre ma il punto è ma stiamo arrivando a dei ragazzi io vi posso io vi posso trovare un motivo anche stupido per tutti i reboot remake che hanno fatto negli ultimi anni cui al di là del lo fanno per i soldi non ne trovo perché la filosofia del bambino che non riesce a però però Mattia giustamente è l'elemento sociologico su cui si punta l'iniziativa commerciale io sono d'accordo impedendo a Michele di cominciare con quello che diceva prima anche però Filippo oltroquando cioè c'è una generazione che tutte le generazioni giovani non vedono l'ora di poter avere la propria versione di qualcosa che i genitori gli hanno impiantato nella testa perché sì è vero che è pieno di bambini che amano Harry Potter però spesso sono stati i genitori che sin da bambini vediamo Harry Potter il bambino dice boh sia che tu metta quello che tu metta non lo so i Flintstone ti dirò sì probabilmente e quindi sono stati cresciuti e ne conosco veramente a pane Harry Potter dai genitori che comunque sono la generazione 89 90 che adesso ha i figli e li sta bombardando con quello che li ha cresciuti cioè Harry Potter ma sì nemmeno io un aneddoto brevissimo non riente il bambino di Tino De Laurenti se volo di John Gillerman uscito nel 76 floppò però io chiarevo quanti anni avevo 11 12 per molti anni che lo via il cinema a quell'età era migliore del classico del 33 avevo ovviamente torto però è una dinamica che esiste e soprattutto oggi si sta accelerando sempre di più cioè i remake non li fan più oramai dopo 30 anni ma dopo 20 15 10 5 e quindi secondo me il ragazzino di 10 anni 12 anni anche solo perché a quell'età comincia a dire solo perché è nuovo cioè il papà dirà però Harry Potter era bello quello che ti facevo vedere io quando eri piccolino lui apposta dirà no io voglio il mio Harry Potter con i ritmi televisivi con magari anche un metodo di regia diverso perché i film di Columbus che sono gli unici che ho visto praticamente i primi due sono splendidi perché c'è Columbus ma secondo me si percepisce che sono film del 2001 è come guardare questa cosa ne parlava dottor Manhattan in una live qualche sera fa lui ha detto io mi sono messo a rivedere i film Marvel perché gli ultimi non mi danno più l'amore che provavo per l'universo MCU che avevo prima rivedendo Capitano America i romani primi innanzitutto erano girati su pellicola e non in digitale e già era diverso cioè li percepivo come film a differenza di quello che sono oggi secondo me arriveremo a un punto in cui i film di oggi i ragazzini li ameranno più di quelli vecchi cioè io ho sempre detto che anche l'MCU prima o poi cambierà può essere anche una percezione ingannevole e lo stesso meccanico che all'epoca ci fu chi disse che The Amazing Spider era migliore della sopravvalutata trilogia di Saturday certo che hai detto è una cosa che hai detto nella tua arito però se avessimo ragionato in questo modo al cinema staremmo ancora vedendo il gabinetto del dottor Caligari ogni dieci anni certo ma io sono d'accordo infatti io sono d'accordo che possa non essere la strada giusta però io lo comprendo che c'è gente che magari vede il film di Columbus un ragazzino e dice sì però dov'è il ritmo cioè magari in ritardo di Harry Potter eh Paolo per te Paolo per te ma scusa anche noi da bambini guardavamo film più vecchi di noi non mi sembra che ci siamo annoiati Marco questa cosa secondo me è vera fino a un certo punto perché se tu vai a vedere i ragazzini in realtà adorano Harry Potter e ad oggi la cosa più vicina ai libri di Harry Potter è la vecchia la vecchia saga cinematografica certo io non dico che questa serie è un'onta dico semplicemente che è bizzarro pensare che adesso i tempi dei remake si siano accorciati quando grazie ai social che è il modo in cui i più giovani percepiscono anche il cinema cioè c'è gente che io prendo ad esempio TikTok perché è quello più in voga su TikTok scopre delle robe di nicchia su Disney Plus che non vedrebbero mai sì ma io non lo capisco però è anche vero Svet che quando io scorro TikTok c'hanno tutti 20 anni quelli che fanno di roba su Harry Potter però ragazzi ragazzi però ragazzi io ero in fila per l'escape room di Harry Potter a Romans erano talmente piccoli che mi sentivo io sbagliato a 30 anni posso dire posso dire una cosa ma veramente il film vecchio io non avevo finito nei confronti degli altri cioè questo è il punto ragazzi questo argomento non è stato trattato seguendo l'ordine di chat come tutti gli altri in male in caccia la dobbiamo buttare ragazzi allora il re leone il primo re il re leone della Disney lo fate vedere un bambino lo ama quanto è incassato il re leone remake che per me era una merda al cinema un miliardo e mezzo e ci sono bambini che lo preferiscono anche di molto a quello animato secondo me perché perché sono andati al cinema per la prima volta hanno visto un film per la prima volta non gliel'ha fatto vedere il papà l'altro è tutto lì è sempre animato comunque no io aveva la pretesa di essere un live action tranquilli tranquilli non sono arrabbiato è semplicemente una persona troppo maleducata allora secondo me secondo ma Paolo vuoi finire te poi vado io no stavo scherzando era una gag era una gag era una gag era una gag ma io ve l'ho detto che oggi sono super zen parla parla che ti devo interrompere io credo io credo che questa dinamica no delle generazioni la state troppo rendendo un problema sociale cioè sulla memoria storica su quanto tempo ci mette un bambino a dimenticare il vecchio il passato semplicemente ragazzi l'abbiamo detto a più riprese negli ultimi mesi nelle ultime settimane perché io vi dico sono zen perché io ho una visione del mercato cinematografico degli ultimi vent'anni chiarissima l'abbiamo già detto negli anni 40 negli anni 50 vendevano gli attori il famoso star system per questo Humphrey Bogart in un anno faceva 40 film numero a caso e l'attore signor Giacomo ne faceva tre perché tutti volevano i nuovi film di Humphrey Bogart che cagasse per un'ora e mezzo sul vaso o che andasse in avventure nella giungla perché vendeva il nome siamo da 20 anni a questa parte nel mercato dei franchise e i marchi vendono più degli attori i personaggi vendono più degli attori stessi è un dato di fatto poi c'è l'altra faccia della medaglia di cui si dimenticano tutti perché a me mi fa ridere l'internet non in questa chat no? eh ma il cinema di una volta non esiste io sarò un cinefilo fuori dalla norma tutti gli anni vedo decine di capolavori o di ottimi film che semplicemente il pubblico generalista decide scientemente di non guardare capito? perché questa settimana c'è Asbestas di Sorrogoi in uno dei più grandi registi degli ultimi trent'anni in sala lo vediamo in trentacinque non è un problema l'ultima scorsa c'era Air che è un filmone bello io vi faccio un altro esempio anche sui discorsi che faceva prima Filippo la prossima settimana ovviamente si sta parlando non di un franchise come Harry Potter ma la dinamica è quella esce su Prime Video l'ho vista in anteprima la serie inseparabili che Cronenberg ha già fatto in forma film negli anni 80 con Jeremy Irons che interpretava due gemelli ed è un capolavoro e io me li sento già anzi li ho già visti i cinefili duri e puri che già spalano merda ragazzi è tratto da un romanzo e questo è un nuovo adattamento dello stesso romanzo modernizzato con una donna con una donna due donne gemelle al posto degli uomini gemelli e con delle libertà anche di censura che oggi all'epoca non poteva avere o comunque non si poteva permettere fino a un certo punto Cronenberg perché è bello truculento detto questo semplicemente è troppo presto probabilmente sì ma la verità è che ne parliamo e giustamente ne discutiamo siamo appassionati questa mossa è palesemente figlia di una confusione degli ultimi anni che ha portato a fallimento dopo un film l'hai detto te Mattia di una saga prequel che aveva tutte le possibilità di fare successo per altri 4-5 anni è frutto di un tentativo palese perché i rumor erano troppo insistenti magari Filippo mi dice il contrario di portare il vecchio cassette di fare il sequel e gli hanno dato picche e questi si sono trovati un franchise multimiliardario e hanno detto ragazzi abbiamo come si dice a Livorno battuto la musata due anni fa che abbiamo mandato a puttane noi stessi con una mancanza di controllo di qualità una saga spin off se mandiamo ora un altro spin off secondo me la gente non ci va gli attori vecchi c'hanno come si dice sempre a Livorno cato sul petto e non sono voluti tornare e ragazzi cosa facciamo hanno guardato guarda lì ci abbiamo da presentare la nuova piattaforma che sta andando malissimo la rebrandizziamo con cosa la vendiamo con Game tra l'altro con Game of Thrones con Harry Potter e tra l'altro per chi sputa la qualità della Warner hanno presentato altre 3 o 4 serie tv di qualità HBO che ovviamente non si caga nessuno perché la ministeria di Park Chao Wook mi sembra una delle cose più interessanti quella con Robert Downey Junior sì che hanno annunciato tratta da un libro premio Pulitzer io semplicemente sono a questo punto che non mi chiedo se il bambino di 6 anni o il ragazzo di 38 che sono io percepisce che è troppo presto per un nuovo adattamento lo fanno come tutti voi che state giustamente vomitando bile lo guarderò e se sarà buono lo giudicherà buono se farà cacare farà cacare tra l'altro lei dottor Mateoschi su questo mi deve credere perché prima mi ha ferito dell'orgoglio io lo sa sono un bimbo di Tolkien e sono un bimbo di Peter Jackson mi sono visto tutti gli Harry Potter al cinema il primo mi trascinarono due amici perché non lo volevo vedere sono affezionato inevitabilmente alla saga ma per me sono tutto tranne che film intoccabili scusami Valend non svenì cioè sono adattamenti a tratti buoni a tratti mediocri di libri che in forma televisiva secondo me possono trovare una nuova dimensione però stiamo parlando comunque del franchise più redditizio di Warner un attimino vorrei manifestare con te o con voi i dubbi posso finire cristallizzati in questa sorta di idealizzazione i grandi appassionati lettori dei libri dicevano eh ma manca la scena della classe di scoperia a sinistra eh però quella sottotrama non è stata sviluppata non è questo il problema Michele non è questo no ma il problema no no scusami Giacomo io lo so che il problema non è questo ho capito che per voi non ha senso riproporre seppure adattati meglio dei romanzi fatti così pochi anni fa fatto sta che lo stanno facendo probabilmente espanderanno qualcuno prima ha detto la parola filler ma pensate a un filler in cui si segue qualcuno dei protagonisti che c'ha un problema con un compito in classe la gente ci va in brodo di giugiole perché già all'epoca di quando sono usciti i film la gente si lamentava che quello che era uno dei punti di forza della serie dei libri ovvero la vita quotidiana Hogwarts mancava dai film senza contare i personaggi secondari tipo Persi che spariva poi arrivava dopo tre film e faceva anche lo chi cazzo è è una comparsa ma infatti non stiamo nascondendo la testa sotto la sabbia davanti agli evidenti difetti dei film essendo nuovi adattamenti romanzi io lo so che un giorno arriverà un altro signore degli anelli c'ho già l'animo in pace e dico amando amando ho finito io ho finito sapendo voi quanto amate io ami la trilogia di Peter Jackson so anche che è uno di numerosi possibili adattamenti perché ora idealizziamo ma c'è il 60% di Tolkien il 40% è Walsh Boyence Jackson ma Michele ripeto se l'adattamento sarà bello sarò il primo a dirlo me lo godrò avevo dei dubbi anche sugli anelli del potere poi mi è piaciuto semplicemente in teoria l'idea non mi sconfinfera tutto io sto sentendo delle cose mi sembra di parlare con dei baccelloni replicanti ma quante volte abbiamo detto che la fedeltà nelle trasposizioni non è importante ma quante volte abbiamo detta io adesso devo diventare un valore però Mattia ma qual è il problema di fare una fedele quello che ho detto io però Mattia delle cose ai film io non ho detto questo li ho criticati in lungo e in largo però francamente se devo pensare agli otto film si tratta di una delle trasposizioni letterarie migliori di sempre ma non capisco il problema nonostante oggi ci sia già tanta gente che lo nega sui social sono stati i film a dare popolarità ai libri non viceversa vendeva già Harry Potter io stesso ho letto i primi tre libri prima di vedere i film ma andavo alle medie quando è arrivato il primo libro e tutti hanno cominciato a chiedermi ah ma è quello che leggevi tu è arrivato lì il boom quindi mi ricordo perché adesso sembra attenzione ma tu hai ragione sulla fedeltà ma è il primo ragazzi però attenzione quante volte io rifaccio nuovo a male parole Paolo perché dice no chi se ne frega allora io non ho parlato io non ho parlato non ho detto la serie sarà bellissima perché farà da pagina 1 a pagina 712 dico semplicemente posso chiarire subito non eri tu quello che si lamentava dell'infedeltà di Snyder no mi lamento perché ha fatto dei film di merda per me Snyder ha fatto dei film di merda ok per esempio me ne fanno le balle della fedeltà dell'infedeltà ma ci mancherebbe altro ma io infatti non sto parlando orrendi e lo stesso vale per il Joker di Phoenix Mattia io mi sto parlando di fedeltà bravo bravo pensate poi dico questo poi attenzione non ho perché io so dove si arriva allora la fedeltà sta nello spirito del personaggio e non negli accadimenti è quello che intende ma ragazzi l'ho detto ma io voglio vedere il signore degli anelli di Peter Jackson ora lo percepiamo come tale ma è tutto tranne che un adattamento fedele segue molti però io infatti se mi fate finire l'ultima frase poi sto zitto per sempre non è vero però non è vero mai zitta io non voglio che la serie faccia i libri per il filo e per il segno dico semplicemente come siete ben consapevoli che il formato televisivo permetterà un respiro alla narrazione anche del quotidiano di Hogwarts che i film non si potevano permettere senza contare un'altra cosa che al contrario dei film questi autori chiunque essi siano e spero che siano adatti al ruolo perché se non c'è dietro la gente giusta è un casino a prescindere avranno in mano già tutti i sette libri perché un altro limite delle adattamente che c'avevano all'inizio solo quattro libri su sette è palese che alcune cose non le hanno curate in tempo per poi comunque comunque il mio libro preferito di Harry Potter è il prigioniero di Azkaban Alfonso Cuaron lo sapete ho una foto profilo ovunque abbracciato a lui ai suoi cazzo di Oscar lo adoro con tutto me stesso per me il prigioniero di Azkaban è un grande film di regia ma è un pessimo adattamento del mio romanzo preferito di Harry Potter pensa cosa ti dico io e non ci posso fare niente è punto quindi io ma non perché non è fedele anzi forse lo è fin troppo ed è talmente pedante nel farlo che perde l'emotività del momento della storia di Harry io dico semplicemente che giustamente uno può dire che palle qualcuno potrà dire mi stuprano l'infanzia qualcuno potrà dire semplicemente fra due anni saremo tutti davanti a HBO lo guardiamo e se ha un buon prodotto diciamo che è buono se fa caccare diciamo che è buono guardate per la roba ma quello è in dubbio attenzione per quanto riguarda i filler secondo me scordateveli perché considerando che devono trasporre tutta sta roba io più di sei puntate a stagione non me le immagino no io di più ma sì 8 variabili ma costa però posso far contare una cosa? te l'ho già detto in chat la prima stagione sono 7 puntate siccome sì secondo me non è un numero di puntate fisse è una serie che ci devi spendere se devi allargare sto war building hanno tolto delle puntate perché hanno bisogno di spendere bene i soldi dovevano essere 10 saranno 8 e voi pensate che ci avranno il lusso di fare i filler su harry potter per me saranno almeno 10 io però voglio far notare una cosa allora molto bene perché poi stiamo parlando solo di questo secondo me è stato proprio l'annuncio di max a essere interessante alla fine per quanto non so se avete visto quali sono i livelli di abbonamento no quello no 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 perché no ma lascia stare quello qualcuno non lo sa ci sono i due tier di abbonamento che sono quelli classici cioè 9 dollari 99 centesimi con le pubblicità non hai il 4k hai due profili per account cioè due dispositivi da collegare e non puoi fare gli scaricamenti per l'offline se paghi quello da 1499 dollari al mese o 149 dollari all'anno hai invece sempre 1080 eccetera hai 30 download al mese per l'offline che anche lì questa cosa non la capisco due dispositivi e dici ok poi c'è quello da 1999 quattro dispositivi il 4k l'audio Dolby Atmos tutto molto bello c'è una piccola clausola però che non tutti hanno notato se tu vuoi vedere roba come adesso non so se varrà per la serie ma per i film Harry Potter è una roba americana voglio dire come da noi arriverà su no no si si no 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 si lo so aspetta aspetta lo so però la cosa americana è questo se tu vuoi vedere siano gli anelli Harry Potter Dark Knight Trilogy devi fare quello da 1999 se no con quelli precedenti non hai quei prodotti ma che stronzata è ma non è giusto ma non è giusto è di questo che secondo me si dovrebbe parlare perché è un po' il genio della Warner ma non ha senso non lo fa nessuno tutti ti mettono degli handicap tecnici questi i loro prodotti più forti devi pagare 20 dollari questa cosa ha un nome si chiama truffa scusate però visto che visto che appunto ne stiamo parlando a questo punto manifestiamo i dubbi anche a livello di filosofia aziendale perché io qui sono d'accordo io ad aprile nel 2023 sono d'accordo con Svet che io cercavo qualche mese fa lei diceva ma Zaslav ma mi sa che è sempre la stessa cosa è la stessa gestione della Warner precedente cioè questo si è visto tutti i numeri tutti i dati ha visto che la vecchia gestione puntando sullo streaming si è persa Legendary si è persa Nolan ed è rimasta col culo per terra al cinema attualmente Warner se pensate che Superman Legacy arriva nel 2025 in realtà cos'ha Warner al cinema Dune da un punto di vista puramente commerciale al box office è quello che dicevo io qui stanno ripuntando di nuovo sullo streaming ora eh sì forse le serie Marvel non ci sono piaciute ma i film Marvel l'utile lo hanno generato lasciate perdere Quantumania ma perfino Wakanda Forever ha generato utile tutti hanno generato utile la piattaforma streaming deve foraggiarsi anche grazie al cinema non è la piattaforma streaming che foraggia il cinema e questa cosa mi da queste cose mi lasciano perplesso il fatto di prendere Harry Potter e sbatterlo sul piccolo schermo cioè io vedrò Harry Potter sul piccolo schermo come Amazon ha fatto con The Rings of Power e pensate che Amazon sia contenta dei numeri di The Rings of Power un report dell'Hollywood Reporter dice proprio sapete il 37% ha visto tutta la serie e proprio sarà contentissima non arrivano nemmeno alla terza stagione che già l'hanno cancellata perché è difficile no no attenzione attenzione ti corrego perché Jeff Bezos perché vabbè che è un burlone ha detto siccome il mio prodotto preferito a costo di perdereci soldi faccio 5 stagioni e ha riconfermato questa cosa dopo che Elon Musk ha parlato male della serie siccome si odiano che belli e farà bene e farà bene alla major cioè il problema è quello parliamo sempre di perdite ma no ma tanto Filippo il problema del seriale il problema del seriale che mi lascia scettico è che voi direte sì sarà un successo al 100% la gente guarderà perfino come sono vestiti quando arriverà la serie ma Filippo il problema il problema è un altro perché tutti questi annunci sono fighissimi sono tutte cose molto belle però io mi chiedo questi hanno debiti che non ce li ha neanche El Salvador come nazione come cazzo fanno con tutti i debiti che hanno a tirare fuori perché è un paese abbastanza povero e quindi c'è un debito arriverà una povera sicura dal governo del Salvador vabbè ma ci sono i report ragazzi magari ci sono di economia però se ci pensate questi con decine di miliardi di debiti lanciano una piattaforma con la serie di Harry Potter che comunque io penso che quei milioncini che servono li dovrai buttare dentro che tra l'altro io voglio fare un calcolo ora che esce ok considerando il tempo che ci metto a uscire e il tempo che durerà io ho fatto il calcolo dovrei avere 49 anni quando finisce se ci arrivo ma infatti ripeto per quello che io non io non penso che faranno film nel frattempo questa è una saga immobile ritorna prima io non sono io non io non sono convinto sulla questione sulla questione dei film immobili no secondo me qualcosa la tireranno fuori vi faccio un'altra previsione no no ti dirò di più il massimo allora posso dirti che secondo me se devono tirare fuori qualche film vedono prima il successo della serie primo secondo la questione dei soldi si rispecchia proprio in come caspiterina gestiranno gli abbonamenti cioè è quello che a me dà fastidio cioè non è tanto la questione di ritornare sulla io faccio una previsione e si vede anche da come gestisci abbonamenti non te ne fotte un cazzo cioè te parlando solamente non te ne frega nemmeno che questa serie venga vista io faccio una previsione sulla serie stessa colonna sonora stesse ambientazioni stessi costumi cambiano ma non diventa la fiera dei cosplay però io stavo dicendo che per me è una mossa giusta era il mio punto quando io ho visto il trailer ho sentito quella musica ho visto quella Hogwarts ho detto però è ossimorico perché tu stai presentando in quel modo una serie che vorrebbe cambiare le cose è un brand con cui non riesco tu stai presentando una serie che vuole essere fedele ai libri la Rowling ti dirà io Hogwarts quando l'ho scritto l'ho immaginato e me lo fai col castello dei film e la musica dei film è inevitabile e non diventa un Harry Potter no un saluto Giacomo intanto ciao Giacomino ciao 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 e comunque la perplessità mi rimane mi rimane ciao ciao Giacomo ciao Filippo ciao quando inizio quando War Legacy prima di vedere Hogwarts nel gioco si sente pam pam parampam solo quello solo quello però lo so poi c'è l'inquadratura col treno rosso e quell'Hogwarts lì e io che non sono affezionato nei libri nei film ho detto ok bravi qua i fan avranno sbrodolato io pianto esatto quindi secondo me loro vogliono creare veramente una cioè loro sanno che è una roba iconica e quindi dicono perché cambiarla teniamo dei dogmi cioè i simboli delle casate ma scusa non bisogna mica rinfrescare il brand ma lo rinfrescano però tengono le robe iconiche però ragazzi se questi li vesti uguali cioè io immagino alle fiere noi alle fiere avremo l'Harry Potter e quelli vestiti uguali della serie cioè quelli di Wish e quelli veri cioè scusate non è detto o ributi tutto o ributi tutto però lo stai ipotizzando e se invece vedremo una roba che e se invece vedremo una roba la stessa location la stessa canzone gli stessi costumi ma io ti dico magari la gente lo vedrà io non lo so e magari diranno cavolo però questi sono belli non come quelli di Wish di Columbus non lo puoi sapere magari saranno quelli di Columbus quelli di Wish i ragazzini che hanno sei anni ora che ancora non hanno visto niente eh non lo so ma non lo puoi sapere magari il reboot del Sione degli Anelli quando arriverà e ovviamente ci sarà Michele che dovrà farci scenderci a patti magari arriverà qualcuno e dirà Michele ah hai visto come sono belle le armature non come quelle di Peter Jackson ma allora è un reboot o non lo è scusate ma non lo è è una roba fedele ai libri e la Rowling ti dirà Hogwarts è fatta così nei libri la descrivevo così c'è la torre a sinistra tre torri piccole e un'altra torre più grande quello deve essere se era così ma il Castello sarà uguale lo teniamo perché era così e quindi le pretese di maggior fedeltà vanno a finire dove? posso dire ma non era fedele non era fedele quel Castello cioè nei libri lo descrive diverso da quello dei film eppure non c'è mica bisogno di una trasposizione più fedele sì io sto chiedendo il bisogno io sto chiedendo quando fa così io la odio no aspetta ma chi ha parlato di bisogno ma non c'è bisogno io sto chiedendo loro hanno detto ma l'entusiasmo è per la fedeltà che poi fedeltà relativo perché appena cambieranno le etne e gli orientamenti che devono fare un reboot in cui riprendono esteticamente tutta la roba vecchia però c'eravamo dimenticati di mettergli il San Mungo ma infatti ma infatti secondo me c'è una branca di pubblico c'è una branca di pubblico posso dire che secondo me stiamo prendendo un abbaglio io sono no io sto dicendo come hanno ragionato c'è una branca magari cambiano tutti c'è una branca di pubblico io quando vedevo la gente che mi parlava dei libri li sentivo spesso lamentarsi cioè dei film spesso lamentarsi e dal quarto in poi non sono fedeli hanno tagliato troppa roba e anche il consigliore degli anelli sono andato in sala io non avevo letto il libro eh non c'è Tom Bombadil non c'è quello che merda c'era una branca di pubblico che ancora oggi dice che non erano fedeli io dico loro hanno detto mettiamo le mani avanti in cento modi saranno fedeli ai libri quindi c'è tanta gente che dirà oh quelli che odiavano i film non fedeli sono contenti quelli che avevano paura che fosse una roba stravolta sono contenti chi magari non è contento è chi è molto affezionato a quelli là o pensa sia un'operazione quindi quando ragione si caga le balle sulla fedeltà delle robe no io sto dicendo che Warner lo sta facendo ha detto mettiamo questa roba qua e vediamo se poi pagherà o meno la fedeltà ha un valore è come quando parlavamo attenzione secondo me è come quando parlavamo di Super Mario settimana scorsa ma il gioco è così ok no io però sto dicendo che secondo me c'è una larga fetta di pubblico che vuole quella roba loro devono accontentarla e gliela danno la Rawlings stessa perché devono accontentarli finisce perché funziona così è come la Snyder Cut che pareva che potessero farla per forza e non l'ha vista nessuno ma lì però lì però è nata da lui che ha rubato i soldi eccetera eccetera ma io dico però che è il loro modo di fare ogni tanto il pubblico lo accontenti perché vuole una certa roba tutti volevano il martello e i vendicatori uniti gliel'hai dato e gliel'hai dato anche altro magari qua faranno lo stesso però io quello che dico è perché secondo me è ottimo il fatto di tenere quel castello perché magari la Rawlings stessa magari poi non è vero vuole solo altri soldi è probabile ma non lo tengono Marco però questo è il fatto per me lo cambiano magari lo cambiano se non accade per me non è un male hanno molti più di quello che stiamo prevedendo alla fine io neanche me ne accorgo è un cazzo di castello per me l'unica cosa che rimarrà più che altro perché è un linguaggio diverso ed è anche più facile che rimanga è la colonna sonora cioè o meglio il tema no 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 secondo me il tema di Star Wars non lo cambiano lo cambiano come tema di Harry Potter vedrai che cambiano anche lo alterni lo sostegno ma raga ma comunque essendo anche un reboot cioè vorrei tutto diverso non è che voglio lo stesso cappello parlante se no è troppo facile però se nei libri è scritto in un modo e devono essere fedeli sarà così se il cappello era così dai perfino la Libus 2000 deve essere quale ma non è detto magari la Rowling ha detto ragazzi voglio una roba fedele perché non mi è piaciuto però uomo bisogna raga però un attimino però un attimo Paolo possiamo dire sta cosa visto che è il 2023 quindi dobbiamo parlare un linguaggio seriale del 2023 per chi perché vedo tante persone che bello la fedeltà la fedeltà aspettatevi i cambi di etnia e anche cambi per l'orientamento ci parliamo però anche qua anche qua io potrei dirti Filippo hanno mai detto l'etnia di alcuni personaggi hanno detto che sono inglesi ma non ti abbiano anche se l'hanno detto vedrai che mi cambieranno uguale guardate oggi ho letto non di tutti non di tutti trovatemi le righe dove lo dicono però perché non l'ha detto c'è anche Pottermore dai allora l'unica cosa che spero a me non frega niente di quello ma sì a me ne ho zero quello non è neanche un problema per quanto mi dico per me potrebbero fare Harry asiatico non sarebbe un problema per me anche Hagrid che si tromba a fiero becco una cosa ma sì ma non è un problema però il discorso è un altro è che secondo me la cosa peggiore vi ho detto è l'intento di tutta questa storia a me quello dà fastidio poi sicuramente sarà una serie fighissima eccetera eccetera e aspettatevi qualcosa di tutti di molto diverso cioè io mi aspetto anche il castello diverso non ci sarà altro no secondo me non sarà molto uguale invece altra cosa che pretendo è che non venga coinvolta più di tanto la Rowling non tanto per la questione della transfobia eccetera eccetera quanto perché ogni volta che l'hanno coinvolta è successo il casino la Rowling è dai tempi di Pottermore che sulla sua stessa saga Pottermore che sulla sua stessa saga era puttanate diceva delle cazzate proprio allucinanti ma non la coinvolgeranno minimamente ma completamente l'hanno messa lì e gli hanno detto tieni prenditi il fernetto come Martini non è executive producer sì sì ma si ma mettono il nome alla fine il libro è suo comunque mentre parlavamo sulla freschezza della produzione odiana sono stati annunciati quattro reboot televisivi di vecchi franchise fra cui Robocop e Stargate ma indipendentemente da questo per rispondere anche all'uomo su questa fedeltà a tutti i costi perché il pubblico la vuole allora secondo me innanzitutto il pubblico si dovrebbe rendere conto che non è il padrone per quanto poi è il pubblico generalista a far i grandi incassi cioè anche a me che non importa della fedeltà penso ma se questa serie fosse totalmente fedele sarebbe un vanto cioè dico per forza una cosa fedele cioè è migliore rispetto ad un qualcosa anche di fatto no no ma infatti no però non è neanche vero il contrario se è fedele è un ok però per forza il binomio fedeltà uguale serie riuscita e confermato no 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 è meglio che ci sia un qualcosa anche di adattato al piccolo schermo ma che funzioni piuttosto che una fedeltà che magari non porta a niente quindi l'importante è che la serie sia bella poi anche secondo me ma infatti ma e se fosse fedele totale e bella può succedere no va bene però loro ci puntano perché sanno che il pubblico rompe dice ok però che adesso cambiano le cose e loro hanno detto no no ragazzi saremo fedeli non ci inventeremo niente questo sembrano vogliono dirci magari come dici te uomo sarà fedele al cento per cento non cambia nemmeno una virgola e sarà un capolavoro quello che a me dispiace è questa pretesa da parte del pubblico senza capire che va bene la fedeltà ma libri e cinema siano due forme d'arte differenti e che quindi con il pensiero autoriale questo a me dispiace che oggi il pubblico pretende quello va bene io mi ricordo quando Sembraimi fece le ragnatele che non uscirono dai polsi e la gente si incazzò ma raga ma queste oscure materie queste oscure materie e la mia sagra la mia sagra ma non so che voglio parlare ma non so cosa sto facendo idratatevi bevete ogni tanto è vero bellissimo bevo comunque dicevo e la mia saga solo che non è acqua va bene lo stesso questo questo è oscure materie ed è bellissima cioè superiore a tanti altri libri dello stesso periodo vero però c'è un problema c'è una serie che iper fedele in maniera maniacale è uno sfraccanamento di coglioni quello la serie è una rottura di taglia però non lo prenderei come un assoluto un'assoluta verità però per dire non è scontato che fedeltà uguale è quello volevo dire però loro hanno detto abbiamo fatto dei film è grossa da dire però la roba è abbiamo fatto dei film che non erano totalmente fedeli adesso vediamo la serie che sarà nelle intenzioni totalmente fedele con i tempi giusti con le cose hanno messo quella musica lì quella roba lì hanno messo le mani avanti cioè come annuncio secondo me è un buonissimo annuncio secondo me cioè era quella la questione alla fine noi dovevamo parlare più dell'annuncio che della serie che non abbiamo io non vedo allora al rettilario di vedere assieme a Harry e Dudley Pier Polkis l'amico di Dudley mi ricordo me lo ricordo io ho letto i primi tre solo quindi mi ricordo quelle parti che non c'erano io l'ho detto mi stupivo che nel primo libro in giro per Hogwarts Pix con personaggio utile soprattutto quando fa nel primo libro io mi ricordo che mi stupi ma niente per sette libri Pix niente io ad esempio però almeno puoi vendere l'action figure dopo vi posso dire che a me da ignorante parlo io ho letto solo il quarto e i doni della morte quindi sono ignorante però mi piacerebbe una cosa che a me è sempre mancata al cinema dopo il terzo capitolo è il rapporto di Henry con gli zii con Dudley poi magari nel libro non c'era neanche però ad esempio a me da ignorante questa cosa mi piacerebbe vedere da me che io mi ricordo andavo in Edicola a comprare anche la gazzetta dei maghi e delle streghe ero proprio grande certo ma soprattutto per chiudere abbiamo parlato di probabili cambiamenti etnici no? in realtà non vedo l'ora che li stravolgano tutti soprattutto perché vorrei ricordare questa roba che mi fa sempre ridere in realtà c'era diversità anche nei film soprattutto la comunità era rappresentata dal mitico Kingsley Shacklebolt i maghi sapete come erano vestiti no? non si sa non si sa perché lui era vestito da Ali Baba che bello che è ma non è vero non è vero i maghi sì sì è stato il più fedele ai maghi lui che dici però quelli dei libri intendo un occhio a nord e un a sud io non so io non so perché ma l'unico nero era Ali Baba io però il mio il mio personaggio preferito comunque il mio eroe era Dean Thomas che la locanda si slinguazzava Ginny come se non ci fosse un nome dimona Ginny prendetemela a proposito fate una cosa nuova mi ammazzate Ginny per favore Ginny è straordinaria no perché se te la fanno fedele un personaggione Ginny se te la fanno fedele straordinario Ginny mi sta sulle barri siamo stati io adoro siamo stati talmente scalmanati oggi che non abbiamo è andata a peggio l'altra volta con Super Mario no ma è fatti no io mi aspettavo un fancasting violento esatto io ero qui a posta magari sui professori stavo parlando io stavo parlando io il fancasting arriva questi della Warner fanno tanti soldi ce li facciamo anche noi quindi tu devi dilazionare il contenuto diverse puntate ci fai poi il fancasting tanto tanto ogni settimana arriverà forse lo fa lui esattamente una serie che parte fra due anni quindi quelli che adesso hanno tipo 12 anni non potranno mai farlo facciamo 40 puntate ragazzi ragazzi io l'ho dovuto scrivere sui social un secondo Mattia finisco sì 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 la gente al di là di tutto ha dato il peggio con il casting ragazzi ci sono due regole fondamentali per i fantacasting l'ho scritto l'altro giorno la gente da per silent and co gente che ha 79 87 anni che muore al terzo episodio in produzione vi prego vi prego perché io vedo Ian McKellen qualcuno ha detto Sean Connery che è già morto ragazzi per fare una serie stiamo parlando di una serie che se va bene finisce la produzione nel 2032 33 dovete prendere Massimo gente che ha 60 anni qualcuno l'altro giorno in un'altra live c'era Tim Filippo era con me in un'altra live c'è qualcuno che ha detto Luna Lovegood qualcuno ha detto l'altro giorno in un'altra live mentre parlavamo di questa cosa Luna Lovegood è perfetta Anya Taylor-Joy che ha l'età per fare sua nonna si ha 26 anni ok e soprattutto già sarà già sarà costosa di suo non si può pensare che prendano tutti i più grandi attori a cui pensiamo tutti saranno cast di nomi nuovi poi per dire il personaggio da una stagione Raptor Barty Crouch Gilderoy sarà una guest star più di peso se no aspettano i miliardi quindi mettetevi in pace anche con questa cosa che i nomi di queste serie saranno al 90% sconosciuti o giù di lì faccio il fatto se vogliono fare per il mio personaggio preferito vai per Gilderoy 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 Hugh Grant ringrazio perfetto è per essere troppo vecchio per allora Mattia io devo fare un attimino anche come si chiama Branagh non era in età essere gettili nessuna era in età attenzione ma non è mica una cosa fedele se vuoi fare una cosa fedele è metta una età giusta io ve lo dico se vogliono fare se vogliono fare il colpaccio ma il colpaccio serio se accetterà devono mettere Daniel Radcliffe come Sirius se accetterà Sirius ascolta se accettano i vecchi attori io li mando a cagare esatto esatto no io lo diventa la cosa di con l'Utos non ci piace sarei meno arrabbiata sarei meno arrabbiata per Daniel Radcliffe e per Rupert Green se accetta Emma Watson mi incazzo perché ragazzi se accettano perché non siete andati avanti uno non accettano perché non hanno accettato il sequel e due lo sanno anche loro che non possono permettersi che l'attenzione sia sul metacidematico però scusate voglio vedere se si presentano con i soldati però scusate in chat ho letto un po' il Dano Codalisce mi sono un po' bagnato sì 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 io devo dire che ora che la sfera arriva anche Timotish ha la me come silente ora che arriva la sfera ma scusa più o meno se ci pensi quando arriverà ci sta due fantacasting belli li ho letti Nick Frost è vero non è inglese cazzo hai ragione è vero Nick Frost per Hagrid è perfetto e allora qualcuno aveva detto Dev Patel per Lupin per me ci sta anche come Sirius Black è inglese è Dev Patel comunque io devo lanciare sto appello a prescindere da chi prenderanno vedremo se al quarto alla quarta stagione arriviamo al ballo del ceppo e Ermione mentre balla con Crume si esce sto balletto a cazzo di cane ed esplode TikTok mi incazzo perché per mercoledì praticamente no veramente non ce la fa perché mercoledì fino a ieri basta e la serie sarà vibes mercoledì lo so già volete la fedeltà io sono ancora cioè la bambina 13enne in me è ancora incazzata per il vestito rosa orrendo di orribile di Ermione tra l'altro il ballo del ceppo ha tutta la preparazione super elegante c'è un mezzo ballo e poi ballano come alla discoteca di provincia ed è bellissimo fatti conto che fatti conto che iconico anche balbettante bambocciona banda di babbuini sì è vero nella camera dei segreti voglio i nani vestiti da cupido per essere fedeli eccoci assolutamente sì e li metteranno li metteranno ed è trasformato una cosa che non ho detto nel centro della live io però voglio una cosa a sto punto voglio che nei quadri animati ci siano un sacco di attori morti per cui pagano l'immagine c'è l'app che ti fa muovere le facce io voglio Sean Connery in un quadro che fa tipo io voglio Massimo Boldi io voglio Claudia Mendola come Piton sarebbe bellissimo a questo punto a questo punto esatto sto perdendo quello però c'è tipo un Tom Hardy ce lo vedreste nel in che ruolo perché no è il ruolo in un serpene anche questo visto che non si sa bene gli anni voglio Michelle Yeo come la McGrany non è inglese Michele come Hagrid ma mannaggia vero Colin Firth votate Michele Innocenti Hagrid grazie Colin Firth Jill The Royal Lock sai chi vorrei come Silente un attore inglese che non è più quotati ma che per me serve perfetto Anthony Stewart Head magari magari è Giles di Buff che anche il teclasso secondo me sarà per stanca Christian Bale come Silente scusate ma un po' giù ma già è belletto è inglese no chi? americano americano no comunque ragazzi non state a vedere troppo l'età perché io tipo ultimamente sto dando un'occhiata anche ai casting di altre serie tv e scelgono sempre comunque delle ventenni dei ventenni per fare dei sedici anni dei sedici anni quindi io sto guardando io uforia c'è una ragazza oddio aspetta quella che interpreta Meddi per chi ha visto Uforia che ha 32 anni e quindi prima di prima di andare avanti se me lo consentite volevo mettere un po' in discussione staminata di Adam Driver come Piton non è americano basta Adam Driver allora è americano ma soprattutto io credo che Adam Driver piuttosto che farsi dieci anni di Harry Potter si sparerebbe nei maroni è uno che fa molti film indipendenti ne parlavo oggi con la mia ragazza dovete anche tenere per esempio c'è un nome Olivia Colman McGranit ma una premio Oscar che ormai è arrivata a un punto di carriera che può fare ma secondo voi si impegna dieci anni a girare per sei mesi Harry Potter dovete pensare a dei nomi che si devono affermare che fanno le loro stagioni di Harry Potter e poi dove firmano firmano prendono i soldi che vogliono e fanno i progetti che vogliono Tom Hardy oppure rimangono attaccati alla serie magari ripeto al masco li puoi prendere per fare una stagione li puoi fare Barty Crouch Jr li puoi fare Raptor li puoi fare Harlock li puoi fare sti cazzi ma non ci stanno dieci anni a girare Harry Potter secondo me la Mc Granit potrebbero prendere una delle attrici che faceva un altro ruolo nei vecchi film che è Emma Thompson che non è troppo anziata ripensare ai quelli dei vecchi film secondo me non ha senso continuerebbero loro e ci facciamo una scommessa su una cena qualcuno torna qualcuno torna 100% qualcuno torna magari con il cameo angolino dell'autopromozione angolino dell'autopromozione roba nuova raga è il nuovo angolino dell'autopromozione quindi utilizzo mi ha rovinato mi ha rovinato la direzione se ti frega sei John Williams scusa no purtroppo niente dunque vado rapido vi invito di iscrivervi al canale a mettere mi piace nel caso in cui stiate apprezzando questa puntata di faccia di nerd e commentate commentate anche se mi sa che tempo per rispondere a troppe domande non ce l'avremo ma in ogni caso le super chat hanno la priorità ma ancor più priorità ce l'hanno gli abbonati che di fatti abbonandosi si cuccano un'ampia gamma di ricchi premi vantaggi cotillon tipo la priorità assoluta lo stavamo dicendo per quanto riguarda ascolto lettura dei quesiti la possibilità ogni settimana di assistere a due dirette in più della durata di un'ora in cui deliriamo in compagnia e approfondiamo gli argomenti e ci conosciamo meglio e ogni tanto ci scappa anche qualche palpata e soprattutto no non è vero non è vero e soprattutto gli abbonati di rango più elevato possono partecipare alle puntate del Matioski Show del mercoledì in qualità di ospiti normali degli ospiti degli ospiti fanno gli ospiti te ragiscono parlano commentano vi ricordo poi la collaborazione con Pampling il sito di t-shirt articoli nerd magliette eh vede la nuova che brava già pronta ma infatti ha superato un forte test attitudinale possiamo dirlo non male grazie finalmente non sono più le persone giocabili dei picchiaduro degli anni 90 c'è un'altra ragazza ma siamo due rosse l'hanno fatta apposta facciamo l'hanno fatta apposta è vero è vero comunque su Pampling con il codice intima 8 inserito in fase d'acquisto vi portate a casa un paio di calze a gratis calze sempre con stamp che fanno riferimento a tutto il mondo della cultura pop ci sono anche quelle non lo so se ci sono di Harry Potter ma tanto è una roba vecchia comunque il codice intima 8 non scade mai se l'avete utilizzato in passato potete usarlo ancora all'infinito all'infinito calze per tutti infine c'è NordVPN il servizio VPN che vi permette di navigare in rete con il massimo livello di protezione i vostri dati saranno al sicuro navigherete nel totale anonimato potrete andare a spulciare i cataloghi stranieri perché no delle piattaforme streaming a cui siete abbonati magari provate a dare un'occhiata a questo Max chi può dirlo e con il codice non c'è nessun codice c'è il link che trovate in descrizione nordvpn.com slash matioschi vi cuccate uno sconto esclusivo e nel caso in cui optiate per l'abbonamento biennale vi porterete a casa fino a 4 mesi gratis di abbonamento aggiuntivo potreste vincere potreste vincere molto bene molto bene io vi devo lasciare perché devo andare al cinema e prima una cena ciao Vick buona serata grazie di tutto grazie per questa amorevole scannata ciao non ti vedrò mai più ciao Vick io posso rispondere di peggio posso rispondere alla prima domanda e poi devo andare anche se è la mia ultima per un po' di tempo perché ce ne stai andando no mi portano a cena fuori gli ex colleghi per il compleanno andami via poi mi manchi vieni a Londra il 28 il 28 forse sì il 28 dovrei avere il pomeriggio libero quindi penso di sì io vi dico per farvi sentire in colpa che mentre cazzeggiavate sul fantacasting di Harry Potter qua ci sono dai sentiamo 3, 4, 5, 6, 7 9 domande 9 domande il primo è cobrante 89 via rifaccio di nerd e oggi quella solita rubrica e mi ricascano anche stavolta dal pero si parla di la maschera di ferro eh oh e poi mi direte no ma la maschera di ferro è conosciuta ragazzi scendete per strada fermate 20 persone a casa e chiedete quanto conoscono la maschera di ferro e chi era il protagonista della maschera di ferro non lo sa nessuno ma sono 20 e poca roba comunque la maschera di ferro questo è un grandissimo film mi sono innamorato subito l'ho visto al cinema e da lì è diventato uno dei miei art preferiti si chiama DiCaprio e comunque si era giovane ma ragazzi DiCaprio giovane come un diamante credo c'è solo da pulirlo e poi si è vista cosa è diventato ma comunque anche di Can Performance e Gerard De Paldi e Jeremy Irons e mille altri film favoloso vi date la vostra opinione su questo film su Luigi Fattordicesimo e su Gemello Buono Cattivo che è quello buono fedelmente accurato sa che buono e cattivo comunque uno milione su questo film e a me mi ha spiegato fin da subito grazie è bellissimo posso parlare io che poi vi saluto lo guardo una volta all'anno vai vai allora innanzitutto Leonardo DiCaprio giovane tipo quasi dieci anni prima era già stato candidato all'Oscar per il buon compleanno Mr. Grape non era proprio di primo pelo ebbe il culo questo film di essere girato prima che uscisse Titanic e uscito subito dopo quindi visse un po' di luce riflessa in realtà già vista all'epoca si è un film divertente non è un bel film di per sé che sia un cult lo porta a città è un film in costume medio da anni 90 molto piacevole soprattutto per il cast perché DiCaprio è bravo a fare i due gemelli uno stronzo e uno un po' meno però c'è anche John Markovic c'è Gerard Depardieu c'è Gabriel Byrne il mio amatissimo che coso Braini anche di Vantarnaverde o no chi c'è poi? Braini com'è che si chiamava? no com'è che si chiamava Parallax quello di Lanterna Verde però a me fa ridere perché l'ego che ha vinto DiCaprio ha vinto il Rezzi come peggior coppia perché sì 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 perché Fabio è personale sono veramente strozzi però erano pochissime scelte con loro due insieme cioè con lui è successo veramente proprio il professore era uscito prima ed era venuto meglio sì ma perché era un film ripeto relativamente a basso budget è che poi è diventato un evento perché c'era DiCaprio subito dopo credo siano usciti entrambi nel 98 a pochi di vista cioè Titanic in realtà dicembre 97 98 gennaio in Italia però ebbe quel culo è un film bellino ecco di più non mi sentirei io non lo rivedo da quando presi la videocassetta a noleggio ai tempi avrei voglia di riguardare avrò avuto 5 anni poi non è mai uscito in Blu-ray è ferma un DVD fuori a me piace la fase precedente di Leonardo DiCaprio quella dove era il dannato Poeti dall'Inferno Basketball Diaries ma anche Boncoplano Mr. Great che è uno dei miei film Basketball Diaries a me quella fase lì piace di lui quello con tutti i problemi del mondo poi è arrivato Titanic c'è stato un po' il riassestamento poi il resto è storia ragazzi io vi devo salutare è stato divertente la prossima settimana al 99% non ci sono il 28 faccio di tutto per esserci visto che ho il pomeriggio libero e ci vediamo da quel di Londra dopo il sport raccomando vogliamo un accento british assolutamente sì così mi prendono for Albrecht ciao ciao bimbi bello ragazzi ciao bimbi e bimbe scusatemi ah eh eh ciao 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 ma non se ne vanno partecipare a questa casciara molto molto sono triste no no non essere triste dai adesso già io sto cercando di conquistarmi il tuo amore da una vita ma io ti amo lo stesso anche se non siamo d'accordo su Harry Potter adesso ci facciamo no no lei mi piace quindi va bene no ma poi poi facciamo pace che è la cosa più bella eh esatto scusate io vorrei dire una cosa a me piace vedere le persone che si riappacificano quindi nel caso che bello è pacifista ma è sensibile per queste cose ma io mi piace guardare proprio le persone che fanno pace sì vabbè dopo questa piccola scossa emotiva vi abbandono ciao definiamo la salve alla prossima grazie mille ciao ciao dunque stavamo parlando della maschera di ferro da ragazzino veramente un cult mi piaceva tantissimo nonostante un finale drammatico non me lo ricordo moriva un lotto di gente moriva un sacco poi c'era la tizia l'amante di Luigi XIV che si suicidava a caso sì si ammazzava che era l'amante che era praticamente stava col figlio di Atos che era come è che si chiama Raul che moriva no era il figlio di D'Artagnan era il figlio di Atos no no il figlio di Atos infatti Atos dopo che il re l'ha mandato praticamente in prima linea lui muore prende va a dare un pugno a D'Artagnan che gli dice abbracciami Guascone ma che minchia d'abbraccio bellissimo sì proprio bello la ricordo diversa per un pochino visto che parlavate della carriera di Di Caprio io vi rammento che una volta Caparezza rappava dicendo vorrei che il mitico Leonardo Di Caprio facesse film solo quando Vasco è sobrio poi le cose sono un po' cambiate è vero ma inizialmente nel post Titanic non convinceva tanto eh no sentiamo il signor Spielbergo continuiamo la rubrica sul rinascimento Disney e oggi parliamo di Kimberleone e Bià del re leone mi confondo sempre secondo me abbiamo raggiunto l'apice sia del rinascimento Disney che in generale dei film della Disney basterebbe solo l'epicità dell'intro che da noi è stata cantata da Ivana Spagna mi riferisco alla sequenza del cerchio della vita abbiamo il miglior cattivo di sempre che è ovviamente Scar doppiato da un magistrale Tullio Solenghi abbiamo le parentesi comiche di Timone Puma che funzionano alla grande c'è la galleria del vento in canale ma anche doppia Mufasa che ve lo dico a fare la storia è molto epica molto interessante adoro anche l'atmosfera tipo quella che si vede quando Scar canta Saro Re in questa atmosfera cupa con i fumi che è in mare aperto caparacadutando poi evito di dire che comunque qua abbiamo uno dei signor Traumi che fa concorrenza a quello della mamma di Bambi anche se secondo me la colpa non è tanto di Scar ma Mufasa che non conosce la sporgenza a forma di soccolo di New e poi c'è anche la sporgenza della vertebra di Morfetta quindi cosa ne è pensato non si vede quindi Re Leone Re Leone si è risparsi mi piace molto però non lo metto nell'Olimpo dei miei preferiti ne preferisco altri perché mi piacevano già le cose un po' no con personaggi cioè non apprezzavo moltissimo gli animali antropomorfi cioè preferivo Aladdin no la bestia Hercules cioè il gobo di Notre Dame degli esseri più umani il gobo non tantissimo il gobo non tantissimo maialo maialo però non piacerti cioè che cosa il gobo di Notre Dame non mi piace meno di altri non sono così affezionato ho visto poco perché di difendersi però è smeralda è smeralda però scommetto che Taro nella pentola magica è il tuo film preferito no è Atlantis il mio preferito il mio classico bello bello una scelta particolare dai dai un po' mi piace un ploppone enorme infatti non lo rifaranno mai vabbè però però la election era in sviluppo eh lo so lo so ma infatti ma sì ma poi arriva e poi che altro vabbè adoro l'adattamento italiano non sono non sono intrigato dal vedere le origini di Scar perché noi ci dimentichiamo che arriverà il re leone leone 2 ma magari come il padrino parte 2 come il padrino parte 2 bellissimo perché Mufasa cos'è sta storia perché perché Mufasa si scoprirà che era tipo lui un figlio diciamo di leonesse di periferia no no è vero un figlio di leonesse di periferia e praticamente poi lui come garzone di periferia dovrà farsi strada e arrivare all'apice questo non sappiamo però è questa la storia davvero narrata da Simone Pumba ma è Oliver Twist che cazzo giuro al di 23 hanno detto questo che cosa vuol dire esattamente proprio questo giuro giuro abbiamo anche il vero nome la scalata dicono narrata da Timone Pumba la scalata di Mufasa al potere la scalata di Mufasa la scalata scalata con la L la scatarrata però io sono d'accordo con il Re Leone credo che sia vabbè sia uno dei primi film Disney che ho visto quindi ci sono affezionato avevo perfino l'album era fantastico mi veniva voglia perfino di diventare un settivolo perché non so se mangiavo Timone Pumba mangiavo in quel modo che mi faceva la voglia di mangiare pure quelle porcherie però ammetto che comunque sebbene la scena iniziale sia iconica stupenda anche cantata da Ivana Spagna bellissima in tempi recenti mi ritrovo ad essere più affezionato a quella del Re Leone 3 dove si scopre che Pumba praticamente che scureggia tipo atomicamente tra la folla cadono tutti a terra e quelli davanti pensa che si stavano inchinando quindi si inchinano per questo durante la presentazione di Simba ed è fantastico ragazzi canon al 100% non ricordavo questo dettaglio ma dovrei rivedere il terzo film comunque si chiama Taka Svet si chiama Taka Scar prima che prenda la Scar in effetti immaginate se si chiamasse Scar già prima giusto come malefica come malefica quando Filippo parla dei rumor mi sembra come mio cugino ma non è un rumor l'hanno annunciato quando Filippo fa gli annunci mi sembra sempre no mio cugino c'è la Playstation 7 tipo no veramente sono una persona attendibile te lo giuro per rispondere al mitico canale di anzi Spielbergo Spielbergo devo dire che è tra i miei preferiti per me i tre fondamentali sono la bella e la bestia Aladdin e il re leone nessuno potrà mai superarli nel mio corasson credo che sia l'apice disneyano tre anni di fila da bocca spalancata però non mi sono mai commosso per la morte di Mufasa l'ho ammetto cosa sta succedendo cos'è stanno facendo scoppiare scusate ragazzi non si rammutta però che cos'è che cos'è cosa sono semi di girassoni di patatine buoni la domanda di Al King che ci avverte riciclata dalla puntata scorsa bravo che però ricicli ci butta via niente Al Lion King buona Pasqua oggi si parla di Harry Potter quindi domanda poteriana domanda che in realtà avevo fatto un po' di tempo fa ma intanto il cast si è rinnovato e quindi qual è la vostra casa io come Mattioschi sono Corvo Nero e vorrei dire alla Warner possibilmente di ridarci il bronzo e l'aquila nello stemma se devono davvero ributtare la saga grazie vedi vedi Mattioschi ci sono degli atti positivi eh vedi ma poi io sono tradizionalista non è Corvo Nero è Pecora Nera Pecora Nera esatto no ma quella è stata una roba terribile che hanno fatto con la prima traduzione perché avevano allora perché la loro idea era quella di utilizzare la stessa casa lo stesso iniziale dei rifondatori le si chiamano Priscilla ah Priscilla Pecora Nera quindi Peter Parker se tu vedi l'originale Rowena non so perché Priscilla vabbè potremmo tenere Rowena comunque Serpe Verde anch'io Serpe Verde io Grifondoro io avendo una conoscenza solo cinematografica ho sempre pensato a Grifondoro solo che poi solo che poi quando sono cresciuto essendo che io la saga la guardo ogni anno ho cominciato a maturare un pensiero una riflessione perché Grifondoro Serpe Verde però Tasso Rosso e io sono indeciso tra Tasso Rosso e Corvo Nero perché sono quelli che se la passano meglio perché non hanno guai lo hanno scolastico senza nessun problema Filippo lo vedo un po' come un Tasso Rosso devi fare il test solo che il Tasso Rosso mi fa paura perché comunque Cedric ci schiatta ma Tasso Rosso non vorrei nessun tipo di problema Tasso Rosso è una casa tanto sottovalutata perché sono bravi Tasso Rosso i Grifondoro le vere facce di merda ma tra l'altro ci siamo dimenticati di dire una cosa bellissima fanno la serie in reboot giusto ma secondo voi non riadattano tutti i nomi per me quello no allora allora mi dovete dire i nomi di ma bisogna wait in for Tasso Frasso raga allora no a te piano dovete dirmeli di nuovo ragazzi di nuovo è pur sempre Warner è pur sempre Warner per quanto sia probabile quello che dice lui quello che dice il signor Matiowski molto probabile mentre l'uomo mangia allegramente la tagliatella di nonna Pina esatto stai mangiando è fusilli oggi bravo uomo bravo uomo però in realtà essendo qualcosa maneggiato da Warner di base loro dovrebbero avere anche i diritti per quanto riguarda la questione del doppiaggio dei nomi eccetera eccetera ci dovrebbero essere in Hogwarts Legacy ci sono infatti Tassorosco infatti è per quello secondo me è probabile che mantengano i nomi originali ma attenzione proprio perché vogliono fare qualcosa di nuovo e di più fedele ai libri anche in sala di doppiaggio potrebbero dire e sai che c'è considerato che Tassofrasso è più fedele di Tassofrasso io posso dire una cosa ne ho bisogno mi potete dire i nomi alternativi delle case e dei fondatori allora le uniche cose cambiate sono Tassofrasso e poi hanno riportato tutti i nomi in originale tutti tranne Silente Piton non si sa perché è vero Arbus Silente rimane Silente allora non ho capito perché questa cosa allora là è un po' una scelta sia del manager che sta in alto dell'editore sia del traduttore quindi è qualcosa di cui si è discusso probabilmente hanno detto Silente è molto iconico lo teniamo Piton è molto iconico lo teniamo la Meggranite traumatizziamo un po' il signore F la Meggranite e McGonagall Neville Pachock Neville Longbottom oppure abbiamo aspetta Vabbè Pix non c'era al cinema ma comunque diventa Pips Gazza e Filch Cornelius Caramel e Cornelius Fudge poi altri Gilderoy Lockhart Raptor e Quirrell Sembrano dei personaggi di A Christmas Carol comunque ragazzi in originale avevano quel sapore un po' fantasioso che da noi hanno adattato quindi Pachock la cosa che mi fa incattare di più è la questione dei nomi delle case perché a me fa anche piacere che tu vuoi essere più fedele però a questo punto Corvo Nero diventa Corvo Artiglio dato che è Ravenclaw Serpe Verde lo chiami che ne so i serpentini che è una roba terribile però li chiami così Grifondoro Qual era il problema che poi il tasso frasso è brutto però lo capisco perché dunque se pensiamo alle casacche Grifondoro comunque nell'emblema c'è il rosso e c'è l'oro Serpe Verde il verde c'è Corvo Nero c'è nero e blu argento tasso rosso non ce n'è di rosso sono gialli e neri perché tasso giallo era brutto tasso giallo tasso giallo avrebbe avuto più senso in effetti tasso giallo tasso giallo tasso variabile ma che è tasso giallo ma loro si chiamano sempre Godric Salazar questi i fondatori non ci sono ancora arrivati no allora Salazar e Godric sì erano dei gilali già Rowena Revan Club tasso rosso quindi Rowena non è Cosetta all'Uwanda no 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 ma anche lì la Corvo Nero una volta era Priscilla poi è diventata Cosetta poi è Cosetta nei film nei film ma scusate ma che vuol dire che Priscilla e Cosetta sono la stessa cosa sì wow mi sembra Elga si chiama Elga quindi è il diadema di Cosetta sì Filippo ma è come no no sapete come si chiama adesso Corinna Corinna è vero Corinna sì te lo confermo Corinna Priscilla Cosetta Corinna sono la stessa Cosetta come leggo in chat ma infatti quando io cercavo le robe non sapendo bene non era un casino perché trovavo tutti i nomi sono 12 anni che questi si escono il diadema di Priscilla a un certo punto nel film e dico ma dove cazzo l'hanno prego voglio traumatizzare la cosa che nel film dicono Cosetta nei libri è Priscilla capito Mrs. Poore e Mrs. Norris Thor il cane di Hagrid e Zanna Zanna ma perché Fujiko e Thor Fujiko e Margot qualcuno fa notare con Lupin era per una questione del vabbè dai chiamiamola con un nome la bottega diagonale che era magia sinistra era un nome che tipo Buge e qualcos'altro li hanno riportati tutti il bugigattolo di qualcosa il bugigattolo non si chiama ma la Warner fa così non avete visto la Warner fa queste cose non avete visto che il DCU si chiamerà DCU però è la stessa roba ma non è un problema della Warner è che di base hanno rifatto la traduzione di recente tra l'altro correggendo anche un botto di cose solo che per via dei film ci siamo affezionati ai vecchi nomi anche se più sbagliati e allora abbiamo fatto così cioè per dirti c'è un personaggio che si chiama Susan Bones nel primo libro che è diventata Susan Ossas 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 e beh sì perché Bones Ossas Bones capisci nel film c'è la McGranity che la chiama Susan Ossas e Susan Bones quella poveretta che appare solo in quel film ma in realtà nei libri lei appare più volte e nella serie nella serie la vedremo però chiudo la polemica appunto cambiavano tutti i nomi per consentire a me bambino di approcciare meglio però il più stronzo di tutti non l'hanno mai adattato Justin Finch Fletchley mai cambiato è sempre stato lui ero lì che leggevo Justin Finch Fletchley piace piace visto che ormai sta diventando un format perché non facciamo una live dove mi distruggete per sempre tipo una volta per tutte chi è Justin Finch Fletchley vedi che c'è bisogno della serie Justin Justin Bieber quello che viene pietrificato Justin quello quello che viene ma che è quello che si presenta ad Harry e dice sì io sono figlio di mezzosangue no è quello che c'è il serpente che lo sta puntando e crede che Harry lo stia attaccando quindi fa la polemica è quello nella versione integrale si presenta ad Harry è vero è vero e poi finisce pietrificato sì vabbè poverino però non me ne fregava eh non volete conoscere questi personaggi ma altri personaggi stupendi non volete conoscere il rimedio nella serie ragazzi c'è la stessa roba del film di Justin Finch non fa niente scusate ma uno chiede non è la biondina di Tasso Rosso no 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 Justin qualcosa è la biondina di Tasso Rosso Colin Cannon e Colin Creevy comunque chiudiamo saluto e ringrazio l'uomo che sapeva troppo grazie una chiusura improvvisa non mi sono accorto che è dell'orario grazie per l'invito io aspetto la serie tanto non so nulla quindi sarà il mio veramente il mio la mia entrata in Harry Potter in in corso cioè dall'inizio guardi film si guardi film ho visto i primi due ma io io nel 97 la maestra di italiano mi disse leggi questo libro io dissi la copertina fa schifo c'è un bambino che gioca a scacchi con un topo in testa io sta roba non la leggo e non mi avvicinai a Harry Potter sfatando il mito che non si giudica libero dalla copertina si giudica vuoi ridere perché praticamente chi disegnava la copertina non aveva idea di cosa vabbè ma potevo immaginare aveva due elementi però veramente io feci questa roba e poi basta poi non sono salito a bordo comunque Mattia io scusami me ne vado prima ciao perché è tardi ciao ragazzi ciao Svetto vogliamo il video della pace fatta mi raccomando ciao Svetto assolutamente saluto e ringrazio il signor F a cui ogni volta regaliamo un po' di traumi ti ricordi che Piton dovrebbe avere 30 anni vero? e questa è una cosa che volevo farvi presente prima quando facevamo il casting quindi per questo pensavo io dico ma non è che li potete prendere paradossalmente Adam Driver è troppo stagionato ragazzi è troppo stagionato se vogliono fare la roba fedele questi c'han 30 anni o Steam Butler che fa The Royal Lock vabbè grazie signor Matioski è troppo stagionato questo è il problema grazie signor Matioski ha un'età non specificata ah ok quindi volendo potremmo anche fare grazie grazie agli altri ospiti al pubblico che ci ha seguito dopo alla luce delle ultime informazioni degli ultimi minuti di questa live niente questa serie reboot sarà una megia basta comunque su Piton vi do la conferma perché sono andato a controllare è nato nel 60 ed è morto nel 98 quindi muore a 38 anni toglietene 7 inizia la saga che ne ha 31 è più giovane di me Piton nel primo libro ok è più giovane di me Piton ok saluto e ringrazio Paolo Innocenti che bello che oggi ci siamo proprio però questa serie per me ci piacerà ho questo sentito secondo me ci divertiremo un mondo nel bene e nel male nel bene e nel male ci divertiremo e ci divertirò ci vediamo presto un caro saluto vi mando un bacio mi chiedono informazioni sulla madre di Harry grande maiala no era così un tegamaccio si un tegamaccio perfetti è un pochino allora il padre di Harry James Potter preparatevi muore a 21 anni maremma assassinata porca miseria se fate i calcoli eh sì questo muore a 21 anni mamma mia ma io a 21 anni non sapevo un cazzo questi già avevano un bambino erano a posto si stavano immolando per fare la guerra è nato nel 60 ed è morto nell'81 però gli adattamenti sono sbagliati bisognava essere fedeli doveva mettere dei ragazzini a fare i genitori di Harry nei flashback capito? perché bisogna essere il cast di mercoledì può fare tutto direttamente i professori fanno proprio il cast giovane di mercoledì può fare Genna Ortega può fare la Meggrani Genna Ortega la voglia può fare può fare un sì che cosa? no la vorrei ovunque mi chiedono di Codaliscia Codaliscia è coetaneo di Piton quindi anche lui quindi anche lui anche lui giusto sono tutti coetanei Tom Holland Tom Holland può fare tranquillamente Lupin Sirius Lupin sono tutti coetanei i genitori di Neville tutto l'ordine della Fenice tutto l'ordine della Fenice aveva aveva vent'anni cioè Silente faceva combattere i ventenni era uno stronzo incredibile un pazzo ecco Cenere Misti che oltretutto saluto ci dice che nell'ottavo film quando Harry usa la pietra della Ressurrezione avrebbe dovuto parlare con i genitori suoi coetanei e si è a quel punto lì ormai è vero è vero è vero perché effettivamente Daniel Radcliffe era addirittura più avanti con l'età rispetto ai genitori ma che paradossi sono erano più anziano dei loro fantasmi che paradossi ma mio Dio che bello che bello e si che meraviglia vabbè vabbè grazie mille a tutti ragazzi e ci vediamo venerdì prossimo alle 17 con Facce di Nerd 2082 ma già lunedì alle 14 ci troviamo al Matioschi di Show con il Signore F speriamo d'ora le manno parliamo di box office di incassi lunedì alle 17 io e l'uomo gli proponiamo TG Cinecomic tante belle news inizia tema degli ultimi sette giorni oggi abbiamo scoperto che devo prendere delle gocce per ricordarmi di quello che mi dice la gente chissà quali altre scoperte nel corso dei prossimi giorni qui sul canale ci sono sempre cose nuove cose nuove un po' come il reboot di Harry Potter infatti qui ogni settimana ci sono sempre le stesse rubri sempre sempre alla prossima ragazzi buon weekend buona serata vi voglio bene mi sono divertito tanto oggi spero ciao ciao